Ma buonasera, bentornati, super ciao, eccoci qua di nuovo su Twitch, no? Su YouTube, sì, qualcuno vedrà questa live su YouTube e non penserà ovviamente che questa live è stata tagliata di un pezzo all'inizio perché non andava nulla, laggava come le veste, infatti ecco che arriva Luca M95 che si abbona per 10 mesi, grazie No, non è vero che lagga, non lagga niente, grazie, quindi anche te sei ufficialmente nella lista del sorteggio che faremo ad ottobre perché c'è in corso il giveaway di settembre, tutti quelli che si abbonano per settembre possono partecipare, cioè partecipano automaticamente al sorteggio di tre, come si dice, tre gift card del valore, primo posto 30 euro, secondo posto 20 euro, terzo posto 10 euro, ditelo anche agli amici Così, più siamo, meno possibilità di vincere avete perché c'è più, quindi non lo dite agli amici, quindi, e ovviamente gift card a vostra scelta, playstation, xbox, nintendo, apple, gesù, bambino, com, quello che vi pare a scelta del vincitore che vincerà, qualcuno vincerà No, no, io non taglio niente su youtube, che staglia? Siamo appena arrivati, cosa succede? Allora, stasera bisogna trottare perché voglio finire questo mondo e dobbiamo andare, a me questo mondo mi sta piacendo tantissimo, mi sono preso quasi tutte le bottiglie, non neanche una, ma per prendere l'ultima ci vuole il costume Che bisogna sbloccare, che ho visto, è un costume molto molto figo Io penso che questo mondo sia già ora il mio preferito, perché mi galba tanto E mi galba anche il fatto che sia nel medioevo, che c'è Robin Hood, stasera così via E il costume che andremo a sbloccare, secondo me, sarà molto molto figo Giocherai Prince of Persia il 2008? Mi piacerebbe, mi piacerebbe giocare Prince of Persia il 2008, rimetto i comandi Però non so se vi interessa a voi, a me piacerebbe, io tra l'altro in questi giorni ci sto pensando perché mi galba abbia di giocarlo, visto che sto rispolverando le robe, PS3 Mi galba abbia di giocarlo, il live non lo so quanto può durare, però magari una live si può anche fare, uno o due, perché lo vorrei riprovare davvero Quando poi arriverà il remake di... del Saber Tempo voglio anche rigiocare con le PS2 Bonjour, perché sei stato in corrente e doveva toccare a Sly 2? Cosa? Cosa vorrei dire? Una one shot su Pop ci sta Eh sì, sì, però secondo me anche più di una, perché è veramente bello, oddio, forse è un po' lento, non lo so, non lo so Io mi ricordo, mi garbò tanto, però effettivamente non mi ricordo molto di vergioli Allora, senti, io ho già preso tutte le bottiglie, meno una, e andrei... che cazzo è successo? Andrei direttamente spediti verso l'obiettivo Però è veramente bellino questo mondino, tutto... Esatto, tutto... tutto col villaggio... veramente bellino Ho preso i trofei, i trofei di... quelli che... con Bentley, Murray e Carmelita che bisognava mettere 60 bombe in tasca Piano piano, ce l'ho fatta Quando ti prendo... vai via Nooo, il mi... ma i missili non c'erano in Medioevo Allora, andiamo... no, di qua, 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 perfetto Perfetto, perfetto, guarda bello, c'è anche la catapulta, c'è anche la catapulta, guarda, i maialini Sbò, vabbè, 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 affanculo Quasi... perfetto, sincronismo Dove bisogna andare? Di qua, guarda bello il villaggino Va andrà su Anche la musica è carina Cioè, mi... mi trasmette perfettamente proprio il mood di Robin Hood, proprio del film Robin Hood della Disney Eccolo Prima di tutto, Sly, ti serve un costume più adatto per infiltrarti nel circo Ma per riuscire a prepararlo, ho bisogno dei materiali grezzi Per la precisione devi procurarmi legno, pelle e metallo di qualità Certo, non vuoi nient'altro, visto che esco? Uoma, latte, un po' di cera per il guscio? Sly, datti una mossa Si è offeso Allora Ascolta... oh nooo, non mi credevo di andare sull'arbero Ascolta, di nascosto le guardie Senti bello... ma senti che atmosfera che c'è in questo gioco In questo mondo Mmm... mmm... sì, bisognerà capire questa cosa del robot Mi sa che hai bisogno di una lubrificata Non parlarmene Ho portato i bambini alla spiaggia allo scorso giorno Però vuoi meccanici Oh, io odio la sabbia Oh sì, è il peggio Vorrei essere in pausa e farmi un bel bicchiere di carburante Sì Che ora è l'evento Sony? Alle 10 di sera Live inizia un po' prima, si fa un po' di tolchini Saporificante Fine alle 10 di sera Lurea 40 minuti Vai alla taverna Però voglio seguire la storia Perché sto livello mi ingarba bomba Quindi voglio stare... Madonna, che starti fa? Andiamo alla taverna, andiamo alla taverna La taverna col coso che gira Col bicchierone di birra Vai via No, lei va a tirare i coglioni Robin Hood di merda Ma dentro la taverna Uh Attenzione Attenzione Come va alla fine dell'era glaciale La fine dell'era glaciale No, un bel boss Mi è piaciuta anche l'era glaciale A livello grafico il mondo che mi è piaciuto meno è quello del West Perché, non so, mi ha convinto tanto Anche se era bellino Sly, gli strumenti indicano la presenza di una lega metallica particolarmente resistente È quello che ci serve Ehi, qui c'è puzza di gas Faranno state le guardie, Sly Non quel tipo di gas Carburante Non si annuncia il nuovo gioco di NatiDog, io spero Spero che sì Spero di vedere almeno il logo di NatiDog Per dire, oh forse si sta lavorando Forse Far cosa Doppio bicchiere della staffa Eh Ah, devo No, guanzo Valeo Ma bellino il fuoco Carburante e fuoco nella stessa stanza Geniale Non mi vedono Blatte Questo gioco è bellissimo Cosa sta facendo quello lì? Posso derubare? Estratto di erbe Estratto di erbe Che è vegetariano E ora Oh No Un metallo Ma veramente è un ingrenaggio Ma è un metallo E ora Ok Oh Mi vado Scendo Guarda bello il Guarda Guarda bella la luce sul tavolo là Ma guarda bella No, che fa schifo Guarda bella Madonna Scendo Io scendo Ma perché Questo gioco non è uscito Anche su PS4 Accidenta Allora Perché Vai Devo uscire Ma è così bello Questo posto No Ma ha ragione Ha ragione Estratto di erbe Sarebbe la droga Scusate Sì Vero Ma ha ragione Scusate Una domanda Perché Si consigliano Al chat3 In confronto Ad arti peggiore Perché Non è il migliore Semplice Siccome si parla Di una Di una serie Ah ma la mappa È sempre quella lì No 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 Siccome è una serie Ottima Anche il minimo Problema Risulta Grazie Johnny No Johncy08 Grazie Anche te sei Nel giveaway Ora potete mettere Link sul reddit L'unica cosa importante È che per inserire Dovete mettere Link sopra Non nei commenti Ah Boh Poi voglio vedere Mi dici poi in privato Capire come funziona Stora di reddit A me il reddit Sta sulle palle Non si apisce nulla Non c'è che c'è Non c'è versi Allora Ma chiudi L'anelli Cosa chiudo Gli anelli Non mi rompe Facciamo così Dieci minuti Così secondo lui Sto facendo movimento E chiudo gli anelli Sì sei un tento Vaffanculo Eh Dici mamma Slime il tempo Anche per PS4 Non è vero Ciao Henry Ciao Girlbrush Questo mese niente home No Perché hanno aumentato Non è più Ogni tre Ogni tre mesi Ma Cioè Non è più Con due mesi di pausa Ma è con quattro mesi di pausa Quindi si può stare in home Solo un mese Poi quattro mesi no Un mese Quattro mesi no Quindi Tre volte l'anno Si può fare Dici l'hanno fatto Per dare più Possibilità Di essere in home Anche Insomma Per variare più gente Perché ci sono tanti partner Mi sembra tanto Però È anche vero Che Ci sono siti come youtube Che non le fanno queste cose Quindi Meglio tre volte All'anno Che mai Quindi Quindi ho deciso Che proverò a chiedere Per novembre Novembre Dovrei Se me lo accetto Non sarò in home Pensavo di fare l'ottobre Però Preferisco novembre Sly 4 Si può giocare anche su PS4 Che adesso è PS9 Quindi te lo giochi su PS3 Perché PS9 È PS3 Non è versione PS4 Si ma youtube Fa can Confronto a tutto Vabbè Un altro discorso Da allora Lo devo solo Finire il terzo Rifinire il 4 E comprami Lost Legacy O tutta la serie completa Certo Sì Uncharted Però dicevo Uncharted 3 È quello più criticato Perché è quello che la storia Che rispetta agli altri È meno curata Poi il gioco è bellissimo Perché il gameplay è veramente bello Però appunto Si parla di una serie Che è piena di titoli ottimi Non c'è un gioco brutto Di Uncharted Quello meno riuscito È quello che Spicca di più Per essere quello meno Bello Capito Sonic Colors È stato Ah non era tutto Subbiato Sonic Colors Io Senti Lo voglio prendere Mattira Voglio provarlo E no Mi si fa il live Allora Io devo andare via Vero Però mi capavo a esplorare Questa No 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 Possibile non ci sia Una maschera Qualcosa Da prendere Se mi ci fa Se mi fa esplorare Qualcosa ci sarà No Possibile Un cazzo Se vuoi che non ci sia un cazzo Sonic FH Sì a me non mi fa un pazzito Però insomma dipende Generation Mega Boss Ma non c'è niente video È un davvero Niente c'è un cazzo Si va via Va bene Buonasera a tutti Cosa aspetta il nuovo God of War Può essere superiore Al superiore Eh beh A regola sì Però A me non mi è garbato tanto Quello del 2018 Eh vabbè Ma non è che è brutto È che ho trovato la storia Molto noiosa Poi Gameplay mi è piaciuto E l'ho trovato anche un po' ripetitivo Però Cioè Era comunque un bel gioco Eh Non per gli sfondi Mi sono fermato a Brotherhood Però Fino a Brotherhood Mi è garbato Un adesso Un certo e il 4 Ma guarda In realtà ci stavo pensando proprio oggi Perché avrei proprio voglia di rigiocarmelo Il 4 Più del 2 Che in realtà Voi avevo detto che avrei dovuto far 2 Ma il fatto è che sono giochi Che li devo giocare quando voglia No Non ho così Però un certo e il 4 Mi piacerebbe rigiocarlo Nonostante l'abbia giocato L'ultima volta L'anno scorso praticamente Però lo vorrei giocare Enrico rispondimi Cosa c'è? Non per gli sfondi Cosa? Non per gli sfondi però Cosa vuoi? Dimmi Quando si decideranno a fare un bel gioco Mi sono No Simone sto scherzando Perché poi devi scrivere Oh perché mi hai prontolato Io non trovo Io scherzo Cosa mi hai scritto? Non per gli sfondi però Eh boh Sì un certo e il 4 Sì Scusate il caps lock Ti banno Il gameplay di C'erisce È stato impostato simile a quelli con Sì infatti proprio per questo Mi attira coros Perché è stato il precursore Di generation Ho 25 anni Cosa me ne frega Se hai 25 anni? E quindi? Visto che siamo coetanei Cosa? Cosa? Ecco Io voglio che fai Jack 2 e 3 Anche io No Jack X no Non me la prendo Finisci Slay 4 E poi porto un chart Tià te lo porto così Vabbè Intanto vediamo Se tutto va bene Domani si finisce No domani mi sa che fa un po' festa Vediamo Vediamo Comunque sì Va finito Slay Allora dove devo andare? Nascostale guarda Ma cosa fai? Ho 25 anni Non me la prendo Guarda no Sì Ho capito Perché hai detto 25 anni Ho 25 anni Non me la prendo Perché sono grande C'è gente che ha più di 25 anni E molto di più Che se la prende Quindi tranquillo L'età non è una discriminante Per quanto riguarda La maturità Quindi Bissing No Ho 16 anni Una volta Un mio professore Disse 16 a 16 Enrico ha detto La sua età Sì ho 25 anni Porta Quest for Beauty No Io ho appena 18 anni No Io ho 22 Con più 20 anni No Eh Le faccio donare Cosa Se domani Te la prendi di pausa Vuoi venire all'acquapark Dove Chi sei Venire all'acquapark Dove Una zanzara Dove sei A Cecina c'è l'acquapark So No Dov'è l'acquapark In Toscana Sì mi sembra Cecina Boh Io lo so Magari Mi tagli Ah c'è Ma chi c'è Non so chi sei A più pazienza Magari Non lo so Ragazzi non ha 25 anni No Guarda che ti do La mia bottiglia Nel senso Questa cosa Mi ha stesa Chi sei Goku Non lo sai Io 12 A Cecina Acquapark Sei cotaneo di Dario No No Non sono cotaneo di Dario Ed è vero Quindi C'è realtà Però no 25 anni Mi sta dicendo Che ha iniziato a giocare Crash a 0 anni Perché Presente quando C'è una caccola Sulle dita E poi fai così Per appollottolarla Non ho una caccola Sto pensando Sono a Peccioli Ah ma sei quello di Peccioli Che c'ha la piscina Sono a Pecci Portamela A Cerco Ma che io non capisco Più niente Cosa Di cosa state parlando Enrico 5 anni 8 No 5 anni Che schifo Nello 0 Play di Crash Ha detto che ha iniziato Il 96 Non è vero Io non ho iniziato A giocare a Crash Il 96 Ho iniziato a giocare A Crash Il 98 Però mi è venuto Allora Voi non sapete Che molto probabilmente Siccome non c'è Documentazione ufficiale Che dimostri L'anno In cui io ho avuto La mia PS1 Io ho sempre pensato Fosse il 98 Però mi è venuto Il dubbio Che non fosse il 98 Ma bensì Il 99 Perché Perché il modello Che avevo io Di Playstation 1 Era quello Senza la presa Parallela O Parallela Sì Seriale La presa dietro Per l'action replay Ma Ho scoperto Che quel modello lì È uscito Il 99 E quindi io Come potevo avere La PS1 Nel 98 Se il modello Che avevo io È uscito Nel 99 Eppure io sono sicuro Che la PS1 L'ho avuta Nel 98 Ma quindi Come faccio Ad averla avuta Nel 98 Se il mio modello È uscito Nel 99 Quindi l'ho presa Nel 99 Ma come faccio Ad averla avuta Nel 99 Se mi ricordo Che fosse Nel 98 Perché mi ricordo Che uscì CTR Quindi Quando io ho avuto La PS1 Era già uscito CTR Bah Non lo sapremo mai Purtroppo L'avevi presa Il garage Ti ho scritto Su Whatsapp Come mi hai scritto Su Whatsapp Ah ma sei te Ma sei te Ma non ci posso Crede Ma sei te No Figura di me Ma scusa È un mi ricordavo Che segui pazienza Io non mi posso Ricordare tutti I nic Scusa No Ora mi sento In corpissimo Vabbè Poi ti rispondo Scusa Un mi ricordavo Che di te Hai ragione Scusa Devo fare Ammenda Ora mi sento Mi sembra Cazzo Vabbè Sì Io Tanto io All'acquapark A Cessina Ci sono mai stato Comunque si vedrà Si vedrà Tanto guarda Ma mi sa che domani Ha messo Tempaccio Comunque vabbè Si vedrà Allora Allora Lo Zero Play Tu hai detto Che la prima Play L'avevi venduta Per la PS2 Questo è vero Questo è vero La prima PS2 Io l'ho avuta Sì La PS2 L'ho presa L'ho presa Nel 2002 C'ho ancora Lo scontrino Sì Era Un insetto C'ho lo scontrino Ancora della PS2 L'ho presa Ma perché Mi avvicino al microfono Se ho messo Il volume Arto Che mi sento Anche se faccio Sì Possibile Che devo diventare Gobbo Per fare le live Poi da vecchio Arrivo Lì E io Bambino Ciao Nonno Ma perché Sei tutto Gobbo Così Per caso Facevi le live Quando eri giovane Ai tuoi tempi In cui la gente Faceva Twitch Sei proprio Una merdaccia Nonno Lo sai Morto Iscrivetevi Per questi Tipi di contenuto Sono Uno streamer Quindi Un coglione E riguarda Su Correggimi Se sbaglio Ma io vedo Un downgrade In un certo E3 No è vero Breve storia Molto triste Enrico comunque Mi riferivo a Prima Che dovevi eliminare Sly 2 Così eri coerente Non ho capito Samantha il nonno È morto Poverino Te lo manderò sempre Cosa mi mandi Ci sta lo scontrino Dicevo Magari se funziona Tra la camera No ormai è scaduto Però dicevo C'ho lo scontrino Che Sarebbe bello Farvelo vedere Però c'ho di là E E Lo scontrino Dice che l'ho presa Appunto era l'estate Del 2002 E c'è scritto Anche quanto l'ho pagata Ma non mi ricordo Qualche volta Ve lo faccio vedere C'ho anche lo scontrino Di The Last of Us Io avvolio On server I scontrini A volte E E quindi La PS2 L'ho presa In 2002 E a quel tempo Là Quando si è piccoli Già Una Un tempo Di tre anni Sembra molto Di più Dei tre anni Di quando Può essere grande Quindi effettivamente Ci sta che io Ho ottenuto la PS1 Solo tre anni 99 2000 2001 Quasi quattro Boh Non si doveva andare Sì hai ragione Mi fate parlare Accidenti Accidenti Secondo te Che fino a fatta La tua PS2 Non lo so Io vorrei tanto Tornare indietro Andare Al negozio Dove io Vado E fare No Fermo Non lo fare Non dare La tua PS2 Dovresti amarla Perché veramente Io Ma io O è stata rivenduta O è stata spaccata Presa a calci Tagliata Oppure Magari l'ha comprata Qualcun altro E ora La tiene Lì Nel suo Nel suo Cassetto Non lo so Lo scontrini Che squadra Ce l'hai Sì Coraggio Vada Vada Ah già L'ho preso L'ho preso Qui a Ponte d'Era Non l'ho preso Ma a Milano È vero CTR L'ho preso a Milano 69 euro Il giorno Allora Allora Il day one 2 ottobre 2020 Il manuale L'ho mangiato Perché Era l'unica copia Del mondo Con il manuale Ma L'ho presa io E l'ho mangiato Perché Così Nessuno Sapeva Come era fatto Il manuale Crash 4 Madonna Tutto spot Tutto pieno di cacatine Di mosca No Vabbè tanto è Crash 4 Che si mette Purtroppo Nelle pile di videogiochi Messi così Il primo In cima È Il gioco sacrificale Perché In genere Se ti metti In pila Quando li impili No Tutti i giochi La Il gioco sotto La plastica Resterà Abbastanza buona Te la senti Col palmo Quando la carezzi Col palmo Sei in grado Di sentire Pulita Ovviamente La mano Non ci devi Non te la devi Messa Impilata In culo Senti Riesci a capire Quanto La plastica È invecchiata Senti Adesso è molto liscia Quindi In una fila Di giochi Quello in cima È per forza La vittima sacrificale Ovvero Quello che si prende Tutta la polvere Tutte le cacatine Di mosca Tutto lo schifo E la plastica Si sminchia Molto più Senti là Questo qui È del 2016 Questo dell'anno scorso Sembra molto più vecchio Questo qui Di questo qua Al tatto Ci sono dei giochi Che io Sembrano sempre nuovi Quindi mi dispiace Ma Crash 4 È la vittima sacrificale E vorrei vedere Tra l'altro Crash 4 Sotto C'è Days Gone Quindi voglio dire Days Gone Che non ho giocato È comunque sotto Crash 4 Poi c'è Lucky Stale The Last of Us 2 Molto in fondo Perché deve essere Molto protetto E poi Final Fantasy Remake Che non ho neanche aperto Vabbè E in fondo c'è Spiro Madonna Final Fantasy Remake Ma io non lo giocherò mai più Final Fantasy Remake Ma perché Final Fantasy Remake Ma io Ma come mi è venuto Un testa Di prendere Final Fantasy Remake Non mi interessa Non mi garbano Final Fantasy Ho provato la demo Mi garbava Sì ma Non me ne C'è Vabbè Poi si giocherà Prima o poi Solo che Non lo so Cioè Vabbè Si vedrà Death Stranding No Death Stranding È di là È di là Però Sì L'ho buttato lì Dov'è che Show the Titans Questa lezione Sulla conservazione Interessante Quando porti Days Gone Mai Ma Death Stranding Lo hai buttato No appunto Ho già letto Due sondaggini Oppure io voglio Crash Pupaz Compratelo Vai su Amazon Nei link Scrivi Amazon Guarda E ti esce il link di affiliazione Guarda E ti esce Cos'è? No ho sbagliato Non è questo il mio link Aspetta non è questo Questo shop Devi mettere shop Ti presento il mio shoppino su Amazon Questo shop e ti esce il mio shoppino su Amazon E te vai ci trovi tutte le cosine C'è merchandise, Crash Spiro Ci clicchi e ti escono tutte le statuine Che te puoi comprare Tutte col mio link di affiliazione Quindi usate il comando shoppino E niente Se pigi quello di Amazon è semplicemente La pagina dell'offerta Che poi prende e cosa ti pare Fa vedere a un 2002 lo scontino della PS2 Il 2002 Ma ce l'ho di là lo devo andare a cercare Non voglio di lasciare in custodì questo posto Poi arrivano i pipistrelli Giocano loro Però Lo faccio vedere Un giorno si fa una live Dedicata allo scontrino della mia PS2 Vecchio di 20 anni Che Si legge ancora un po' Poino Non è il tuo link affiliato? Sì Sì Tutte e due affiliati Tranquillo Tranquillo Solo a me la live di lei Tipo 10 secondi È normale È normale I pipistrelli Sì Comunque la PS5 Ora arriva un ingestop Unire 5 mani 5 coppie Catena solo con il bundle Mi dispiace Bundle Così mi dispiace Così mi dispiace Io ce l'ho Non è vero ragazzi Io non ho una PS5 Ho una Playstation 5 Io sono 106 Che gioco bello hai Del 2006 Non esistono giochi belli Del 2006 Mi dispiace In quegli anni Tutto è andato perduto L'unico gioco bello Prima del 2006 No In realtà Non esistono giochi belli Del 2006 Ma esistono tutti i giochi belli Prima del 2006 Nel 2006 Sono usciti solo giochi brutti Nel 2007 È uscito Ancette Uno Quindi ok Sonic 2006 Proprio in che anno Sei nato Nel 2006 Il 2006 Il scemo Il scemo No no Non è vero Il metro dice che c'è il sole Domani a ceci Adesso ti tendo Ma guarda io veramente Cioè Io Tanto fra poi L'estate è finita Mi voglio abbronzare Quindi Io voglio fare la live Perché C'è la maglia nera Non si deve vedere il viso Da quanto Ormai però Ma abbronzo E comunque quest'anno Mi sono abbronzato Molto più del solito Però Non so Ma quanto ho Stampton Anche Antonio Non sono mai andato All'acqua Joker 2003 Tomb Raider The Angel of Darkness Stasera è un Delight Più l'art L'ho messo tu No Non l'ho messo io Probabilmente è Twitch Che è impazzito Cosa pensi La trilogia di Spiro Fa schifo Non è vero È bellino Grazie Henry Prego Io Il 2006 Un tolchino Gameplay No ha ragione Sì bisogna giocare Sono un po' Paxererlo Sly3 2006 Non è 2005 2005 Sly3 2005 Non è 2006 O 2006 Davvero È finita l'estate Mi voglio sbronzare No Giochi del 2007 Cosa Quando faceva cagare Il modello di Nathan Prima dell'uscita Del gioco Sembrava un truzzo Però era bellina Una maglina Io sono andato Il 2009 Ma com'è possibile Giochi del 98 A parte Crash 3 Espiro 1 Tomb Raider 3 Tomb Raider 3 È del 98 Dino Crisis Che anno è Forse Croc Pac-Man World È del 99 O del 2000 Forse del 2000 Pac-Man World Pac-Man World Io credo 99 Si può Pac-Man World 99 Madonna Questo Si doveva giocare D'estate con Vito Poi non c'è stato modo Eh prima o poi Ci sarà modo Ci sarà modo Di avere di nuovo Vito Ma Si può giocare Perché mi fate giocare Stasera Finiremo questo capitolo Di Sly Sì Ah 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 Leggi questo commento Balli Poi dice che il lavoro fa Il buffone Il buffone Il buffone Il buffone Sono un pagliaccino Io voglio del Vito Nella mia vita Balla davvero Eh vabbè Sì Ci stava Nel 2000 Madonna Cardo Stasera però Porca mia No io accendiamo Si gioca La dub Andava in modo 2016 Vattene via Che mi sono perso Qualcuno mi spiega Non lo so Se oggi è questo momento Ti spiace CTA No non è vero Da Sly Cooper A Smy Cooper Eh Raga avete visto Visto che bello Il menù di Sly 4 Non usciremo mai a finire Eh mi piace Fa parlare Meglio Sly Cooper 4 Assolutamente Io dopo aver anche Platinato Il Quel 3 Sì Bellino il 3 Però I primi 3 Sono messo in una serie Molto Cioè Non la consiglierei a nessuno Non è un gioco I primi 3 Non sono un gioco Che consiglierei Cioè sì Se proprio li vuoi conoscere Te li recuperi Mentre il 4 È un giocone Il 4 è un giocone Dici Mi consigli un platform Sly 4 Mi consigli un Un gioco Che non dovresti consigliarmi Sly 1 2 3 Capito Bravo Ranty Mi consigli un gioco Che non dovresti consigliare Vabbè Bravo Ranty Di un frutto Un frutto bumpa Ah Ha clippato Guarda Non lo voglio vedere Lo vedrò Nella tua compilation Ma a te Fino a quando Hai intenzione Di fare Queste compilation Perché prima o poi Arriverà il mese In cui non ne farei più Perché Non so Lavori Ti sposi Te ne vai Che ne so Vai su Marte A un giorno L'hai giocato E ho platinato Per tre Ho platinato Ho platinato Quindi mi sono dovuto Rigiocare tante sfide Perché c'è le sfide Ma mi spiegate Cosa dite qui E che mi mandate Messaggi Ok Vabbè Poi leggo Eh Ma domani Ma scusa Ma domani Fammi vedere Ma possibili Mettere solo live Devo chiacchierare Delle ose mie Bella domanda Finchè posso continuare E ricordi In questo è un gioco Che non ti dovrei considerare A me mi dice Che domani No domani è sabato Che domani C'è la nuvolina Domani C'è la nuvolina E se guardi C'è anche una nuvolina Con la gocciolina Con la gocciolina Lì vuol dire Che il tempo Fa piange Quindi non lo so Io cosa vai Vabbè senti Io voglio recuperarmi Più lo slide Dato che non l'ho visto Le live Eh va bene In realtà è il primo slide Quello che mi ha grabato Più di tutti Nessuno sta pensando Enrico E lui sta illudendo Ma io Ma chi ti onoro Io non ti conosco Io non so chi sei Presentati È un problema della rete Che iPhone hai L'iPhone 7000 Che iPhone c'è Che sei Che problema c'è Della rete Bimbi La goccia vuol dire Che il tempo fa piangere Eh oh È certo Cosa volessi dire Eeeh Olli fans Ho letto Olli fans Boh Non vedo molta collaborazione Io lo bannerei Mi spiegate cosa succede Su avanti Boh vabbè senti Io devo giocare Via Robin Hood Andiamo a Robin Hood Andiamo a Robin Hood Fa giù lo di Inghilterra Yeah No devo andare laggiù Vediamo se fossi No Oh laggiù Devo andare lontano Devo andare lontano Maiali Maialino No aspetta qua Ci arrivo di qui Ci arrivo Che gioco meraviglione Che gioco meraviglioso Guarda l'acqua Senti Però non potete Rompere l'uomo Eccoci Hai saputo di Kramer? No Che è successo? Gli si è smagnetizzato Il repicolatore Poveraccio Oh cavoli Che male cane Già Io cerco di stare Alla larga dal metallo Non fa per me Sai Dovresti farti trasferire dal fornaio Lì dentro ci sono solo legno e pane Quindi bisogna andare dal fornaio Vai dal fornaio a prendere della legna Dal fornaio a prendere della legna E dal falegname a prendere del pane Mi sembra giusto Che c'è? Qui c'è gente che accelera Ok Fly Vediamo se Riesco a bruciare il codice A partire qua Addirittura? Guarda che animazioni meravigliose Dio santo Con una battuta stupida Ho allarmato la chat Perché? Cos'hai detto? Che è successo? Che è? Mi giro Vedo il caos Piaciuto il boss per storico? Sì molto Urca urca tiro le rogi Splende vito staff Ma quindi Si gioca La battuta è l'HollyFans Che nessuno ha capito L'ho neanche letta Mattia sta avendo problemi con Twitch Va bene Non importa Riposati Stasera Sta piovendo da me Olè Apriò l'HollyFans Sì apriò l'HollyFans Mi spiace Ho comprato un pupazzo Hai comprato il pupazzo? Davvero? Hai comprato il pupazzo Col mio link? Oddio Grazie Che bello Grazie E dico che rumore fanno Le zanzarone Sly 1 Più o meno questo Guarda questo video Va al minuto 6.35 Vediamo che cos'è 6.35 Bandisley Cooper Benvenuti in questo Nuovo video Sul mio canale Ma è Chroma Aspetta Lo sentite in radio Voglio sentire solo Cosa dice Visto che mi l'aveva andata Ma è all'altezza I giochi del primo Del secondo Del terzo Fate come mi pare Raga Ma il 4 È Obiettivamente Inferiore Poi se vi piace Va bene Io e Chroma Non siamo più amici Quello era Il suono dei funghi Io credo L'Olefante Di Harry E Vito No 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 A questi livelli No Vito sta bene Ma poi scusa Ma perché Perché dovrebbe essere Meglio Perché dovrebbe essere Inferiore Questo I Quando arriveranno Alle foto Manderò la foto Su Telegram Eh Mettila anche su Instagram Ti posto Ti riposto Allora Ma incuriosito Però con quel video Lì Io voglio sapere Perché per Chroma Che è fan Di Sly Il 4 è inferiore Quando è nettamente Un gioco Superiore Sotto tanti punti di vista Il 2 e il 3 Secondo me Non sono così bene No il 2 assolutamente Poi è veramente Secondo me Sly 2 è proprio Un brutto gioco Proprio Al di là di Di Sly Della serie Proprio A livello di gioco È proprio Un brutto gioco Poi oh Fatemi Vi pare Secondo me È così Poi ognuno Non può pensare Come vi pare Per me Già Sly 3 È tanto Mello del 2 Ma questo lì È proprio un altro Questo è un gioco Vero Cioè È anche vero Che sono passati 8 anni Quindi Si fa male Il paragone Però Io mi rendo conto Che ad esempio Sly 2 Ma anche un po' 3 Generalmente Tutta la serie Di Sly È molto più invecchiata Rispetto a Appunto Quella di Jack O anche Ratchet Ma tanti altri giochi Di quel tempo là Cioè Ma Cioè Il problema Non è solo Nell'essere invecchiata Perché Sly 2 È proprio Noioso È proprio un gioco Noioso Cioè Se te dici Che Sly 2 Non è noioso E io ti dico Boh E allora È la mia parola Oltre la tua Chi ha ragione Non si sa Ma non è che Mi devi argomentare Perché il 2 È meglio È il meglio Della serie Perché Dimmelo Spiegami Per punti Dimmi Perché Sly 2 È meglio Della serie Non lo è Non lo è Te le smonto Tutti i punti Che mi tiri fuori Voglio dire Non ho paura Io voglio Il confronto Del live Boh Enrico Leggimi Il croma Ha detto Che è meglio Or 2 Lo so No No addirittura Chi pervisce Sly 2 È un nostalgia Del cub Non lo so Voglio il confronto Del live Senti Finisco Questa cosa E si guarda Il video di croma Sono curioso Tra l'altro Quel video lì Diceva di Sly 5 Non è che diceva Non è che faceva Diceva cose Su Sly 2 Su Sly 2 Diceva di Sly 2 È piaciuto abbastanza A certi punti È molto nervoso Se vuole parlare Fatelo parlare Sly 5 Sì Ci sono i rumor Su Sly 5 Non credo Facciano Sly 5 Perché C'è stato un flop Sto lì Cosa fai Sly 5 È flopata Un'altra volta Ma ha senso Qua non lo so Sai Sony Se decide E fa una cosa Avevano fatto Il remake di Medivo Anche il remake di Medivo Io so per quanto Ha venduto Però Effettivamente In quest'ottica Se hanno fatto Il remake di Medivo È tutto possibile Quindi anche Un altro Sly Però Sarebbe bello Potesse essere possibile Anche un Jack Accidenta a loro E la maiala Isumato Te l'ho detto No 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 Gigabomba Come gigabomba Ah Ah Devo rompere Questo Ok Cheating Fantastico Viene Broni Devo cercare Di starci alla larga Io Ancora Prendilo Di c'è Più grossi sono Più rovinosa È la caduta L'accesso Del contino È aperto Devo Attraccare La nave Yeah A voi Funzione A voi Boh Va Ah Le switch È esploso Veramente Allora Medi E lessi Ai tempi Che vendete Circa 500.000 Copie Non si è più Saputo nulla Minchia Sarebbe già comunque Qualcosa 500.000 Già che non ci fanno Niente Qualche giorno fanno Spessamente detto Che hanno messo Jack in cassetta Sì che poi basterebbe Farlo fa qualcun altro Che magari saprebbe farlo Però ovviamente Forse è meglio Non farlo Che fare una merda Il problema del quattro È che il finale È un po' Da denuncia penale Sì 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 Ma i platform Andrebbero giocati Per il gameplay Non tanto per la trama La trama è completamente Accessoria Nei platform Andrebbe semmai Apprezzato La narrazione Però i giochi Questi giochi Non sono giochi narrativi Quindi insomma Eh Sono un po' Eh Eh No 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 Cosa No 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 Il remake del primo Cosa C'è un altro video Che però parla di tutti gli slide Enrico Maria Truerenzi Fa più no Per ora no Se vuoi parlare Ok Ehm Manca solo che ti fai tiktok Ce l'hai In realtà credo No l'ho levato forse Avevo provato tiktok E è durato un po' Medio Poi ho detto O levo tiktok O mi sparo E quindi ho scelto Di levare tiktok Tutto il finale Tutto stupendo Guarda Io sono molto curioso Di questo video Di Cioè In generale Del parere di Chroma Perché comunque È di garba Sly Quindi Insomma Vediamo C'è cresciuto Secondo me L'hausa più importante E la differenza maggiore È che c'è cresciuto Io no Quindi Boh Ma ragazzi Un film di Chris Kang Mi può rendere Ma infatti Cioè Non è come Uncharted Che sono fortemente Narrativi Quindi te giochi Un Uncharted Per vedere come va a finire Cioè Sly non lo giochi Per vedere come va a finire Sly lo giochi Per vedere come è la Come sono i vari livelli L'ambientazione Quello che ti comunica Cioè La sensazione che ti dà Non è per la storia Mi porta a sé Della storia di Sly Se è bellina Meglio Ma E nei platform Che sono così Che ne pensate Il film FNAF Non lo so Io avrei scelto Di spararmi No No vabbè Allora Vediamo un po' Cosa devo cercare Chroma Sly 5 Non lo so Sly Però Sly però Siamo pensavamo Molto Nardi Vabbè Che cosa sia stato Narrativo Via C'è una trama Di buona Da Scooby Doo Via Cos'è stato Tra Nardi E Questo Sly 5 Non esce più Ma è di un anno Fatale Fandisle Cooper Benvenuti in questo Nuovo video Sul mio canale Beh Oggi siamo qui Per andare a parlare Di quello Che era Un sogno Praticamente Quasi Concretizzato Mancavano Pochissime firme Bam Distrutto in pochissimi secondi Tutto questo È andato in frantumi Quando la Sanzaru È stata acquistata Da Facebook Perché Doveva fare Dei giochi per VR Sappiamo insomma Di Facebook Oculus Tutte queste cose qui Sanzaru Aveva vinto anche Il miglior Se non erro Gioco Dei VR Che è una roba Che riguarda Asgard Tipo Roba che insomma Non mi interessa Nonostante io abbia il VR Però lo utilizzo Una volta al mese Veramente Perché non ci sono Dei super titoli Interessanti Tornando a quello Che ci interessa a noi Sly 5 Perché Sly 5 Non esce più Innanzitutto bisogna fare Chiarezza su chi ha i diritti Di questo benedetto Sly Vabbè questa è roba Di un anno fa Devi andare al minuto 5 Andiamo al minuto 5 Che non ci interessa La Sly 5 Ve lo dico Ma arrivano Io non posso neanche Aprire un cazzo Di quadrato Sulle domande Di Sly Cooper Che mi arriva scritto Cioè sulle domande Di Instagram Non posso aprire un commento Mi scrivono Sly Cooper Punto interrogativo Ma io che cazzo Te devo rispondere Cioè che te devo scrivere Che è una domanda Poi Sly Cooper Punto interrogativo Su fammi una domanda Su Instagram Io se lo sapevo Sly Io neanche lo andavo a trattare Cioè io pubblico video In Microacademia Mi hanno scritto Quando Sly Cooper Che io Cosa cazzo Ne so Io non lavoro Ne in Sony Non sono una persona Che lavora in Sanzaru Ma sono molto Informato Sicuramente più Dei siti merdosi Di informazioni Che ci stanno Questo periodo Che uno scrive Un articolo L'altri subito Che copiano Ma vuoi assomigliare A Grena È vero È vero Magari Dei stessi video miei Io qua Ve lo giuro Ve lo giuro Io dovrei fare un video Dove dovrei dire Tra l'altro sto facendo Sto senza copiare Ma sti cazzi Devo fare un video Dove sparo A zero Tutte i news Tutte i news Stronzate Crevo siti web Falsi Ma perché Econo le cose Così come stanno Così questi Copiano le informazioni E vanno in giro Dovrei dire Sì stavo su Sly 5 Ma che video è C'è Un insider De questi Un insider pelato Con gli occhiali Vabbè I baffetti Non ne parliamo Capito no? Questo era quello Che c'avevo di Su Sly 5 Non uscirà Fidatevi di me Perché non ha venduto Il 4 abbastanza Mi pare che Sony Casa multimilionaria Va a spendere dei soldi Per produrre un gioco Che nessuno cacherà A meno che Non torna in mano A Sager Punch Soprattutto Non saranno mai All'altezza I giochi del primo Del secondo Del terzo Fate come vi pare Regà Ma il 4 È Obiettivamente Inferiore Poi se vi piace Il 4 Sti cazzi Gusti vostri Gusti di merda Ma vostri Il 4 è bello Quello che vi pare Ma non sarà mai All'altezza Dell'1 2 Super ciao ragazzi Miei Ariu Precianza Ariu Precianza Cos'è sto video Perché mi hai linkato Un mio video Cos'è Ma sei Precianza Per caso Per il secondo Che è il capitolo perfetto Secondo me Ma come il 2 è perfetto Non è vero È peggio di tutti Spero il video vi possa essere piaciuto Iscrivetevi al canale Socorro Autentica Per non perdere nessuno I miei prossimi Non siamo Non siamo d'accordo Non sono d'accordo Perché mi hai linkato Il mio video Scusami Metti sto video A 6.42 Vogliamo un attimo Ammirare Ammirare come ero io Nel 2018 Novembre 2018 Benvenuti giornati Qui sul mio canale ZeroDix Che sono io E Lala Ovest Il mio canale Di video Sono ringiovenito Rispetto a quel tempo Io ho fatto un patto Con il diavolo Ragazzi È così Devo andare a minuto 6.42 Un po' 41 minuti Dura sto video Ma veramente Faccio video Sì lunghi 6 e Prova le uova E riportacele Spyro Contiamo su di te Tranquilli Spyro Ma come Spyro Spyro L'hanno fatto L'hanno fatto Maledetto Porca put***a Che spettacolo No aspetta Prima devo invertire Le assi Quindi Ma comunque davvero Eri giovanissimo Non è vero Ero più grasso Guarda Guarda Ti sembro uguale Ti sembro uguale Guarda Ti sembro uguale Molto meglio adesso Non ti fa ridere la faccia che hai fatto? No Comunque Dicevamo di Chroma Non ho mai capito Perché giocasti Prima del primo Perché il tre Quello che conosco Eri molto più giovane Ragazzoli cari Benvenuti ad un Cosa vuol dire? Che ora sono molto più vecchio E brutto? Sei uguale Ah Eri più grasso Ero più grasso Sì Non tanto Però sì Eri meno Chris No Eh vabbè Enri Eri più bello Ascoltami Sileti eh Io non voglio Che nessuno metta in dubbio La mia bellezza Più della mia competenza Sui videogiochi I gameplay di Spiro Mi scadono il cuore sempre Eri più sexy Non è vero Ragazzi Io ora andrò in palestra Ve lo do io il sexy Eri meno bion Ebbè certo Allora Fammi un po' Cercare Sly Sly Cooper E sta per tornare C'è un video Dove parla di Sly 4 Alle volte Top 10 Personaggi stupidi E c'è Capitano Quack Bene Secondo me Eeeh Fiamo un po' tempo Un po' lati nel tempo No Lati nel tempo Migliori boss Tutti gli antenati Sly Cooper Sly 4 Non mi hai letto Io ti ho conosciuto Io ti ho conosciuto un CTR Visto che volevo vedere Un po' di spoiler Ho cercato su YouTube E mi sei uscito tu Spesso e volentieri Guarda i suoi vecchi video Mi tengono compagnia Spero di farne nuovi Di capelli Di video Di capelli Leggo capelli Sì Più o meno Non è che cambio capelli Se gente cambia Taglio i capelli Ogni 10 minuti Vogliamo un CTR No Io non ho un CTR Nessuno Sly Cooper Sì Un euro Niente C'è versi Di Sly 5 Vediamo questo Il che è di due settimane fa Ragazzu Alicari Ah è lui Crono No Non mi dico Che è tutto Lui che parla No Non voglio Niente Via Si va Ragazzi Non posso dire niente Che sia vero Perché Enrico Si banna Ti ho fatto un complimento Enrico è bello Sia prima Sia adesso Ma io non è che voglio No ragazzi Se no sembra vero Che sono qui Per accogliere I vostri Complimenti Mi fa piacere Però io sono uno Che lotta molto Con il tempo Che passa E mi fa incazzare Che Io Si invecchia tutti Non voglio Quindi se io vedo Un video Vecchio E vedo che Sono uguale Sono contento Capito Quindi non mi dovete dire Che sono invecchiato Perché mi incazzo Quando diventa i shad Flex e il fettore Guarda io il fettore Ce l'ho già Possono migliorare Enrico che fa finta Di essere modesto Ma cosa vorrei Faccio finta di essere modesto Tutti i ruffiani Sei più magro Ma si vede Che sono passati gli anni Ma come si vede Che sono passati gli anni Vai al minuto Uno e zero Uno e dieci Preciso Vai solo uno Potete mettere Cosa c'è Che ha in un pop Sly È vero È vero È vero Il pop di Sly È molto sibillino In questo Flex ai polpacci E petta Ok A un'ora e uno Madonna Ho lasciato un video Di un'ora Su Sly Su Sly Vabbè Il ciuffo biondo Di un giovane Dice sì No vabbè Ma stasera C'ho anche la barba E quindi Quando domani Mi fa la barba Mi fa vedere io Chi è più giovane Enrico sta invecchiando In un esercizio Come tutti Non è vero Io non invecchio Come tutti È un problema grave Bimbi Ok Si invecchia Non ci si può fare niente Ma c'è chi invecchia di più Ma ragazzi Ma se Prigianza Vedi questa live Cosa deve pensare Dimi Hai pazienza Scusami Non mettetemi In condizioni Di essere Criticato Devo andare Un minuto e uno O un minuto e dieci Un minuto e più Un minuto e uno Andiamo Enrico non è amaro Lui non è bianchia Ecco Io non vedo la barba Io è l'unico Che lo vedo meglio Oggi che allora Cioè Enrico Mio babbo Era un tuo prof Puccio? Veramente? Puccini? 99 Sul serio? Non è vero Mi culo prendi Enrico e Dorian Gray Enrico prima Era vecchio Ora diventa Giovane Come Benjamin Ma veramente Sei figlio Del Puccini? Veramente? E mi segui? Questa cosa È imbarazzante Non segui Vai via Non mi seguire Non mi segui Vai via Ti dice le cose Vai via Segui qualcun altro Madonna ragazzi Ora c'è anche Il figlio del prof Che mi segue Ciao Salutami Professore Ma poi sì Non posso fare le live Che il figlio del professore Mi segue Ma io ma come Cosa devo fare Sono condizionato Sono condizionato Ora Ma cosa Io chiudo la live Ve lo dico Mamma mia signore Ciali e robe simili Mentre Sly Che la banda Pensava fosse morto Ha cambiato vita Adesso fa Il poliziotto In un certo senso Con Carmelita Termina così Sly 3 Parla proprio Di ladri nel te No 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 Allora Fermi Lui ha parlato Da 6 minuti No fermo Da 4 minuti E mezzo A 6 minuti Di Sly 1 Quindi 2 minuti Poi ha parlato Da 6 minuti E mezzo A 38 minuti Di Sly 2 Quindi Mezz'ora abbondante Poi da 38 A un'ora e 1 Di Sly 3 E poi da un'ora E 1 A un'ora e 4 5 Di Sly 4 Bene Almeno andavi bene Le sue materie No Sì Cioè Me storia Non mi calbava Perché Eh Non Non mi ha interessato Lui Era il professore di storia E non mi ha interessato A me studia storia Però Ma no Perché lui No Non mi facesse No Non era il professore Che Non mi faceva Passi una storia Ero io Ero lì Non ero in grado di studia Perché leggevo le righe E arrivavo a un fondo Alla riga E pensavo a altro Capito Ma Ma il Pucci E tu babbo è lì O No dai Vai via Io non posso Fare una live Pensando che il figlio È il professore Mi guarda Cioè Mi pazienza Mi condiziona Io non posso Più essere me stesso Non posso essere me stesso Inglese migliora Materia sì Di single prof Di storia Ma che No no Ma cosa no no Vai via Ti banno Ma a parte se ti banno Me la puoi vedere uguale a live Porca miseria Sono fregato Come faccio io a liberarmi di te adesso Inglese storia migliori No storia no Inglese biologia Ti dico una cosa Anche lui ti guarda a volte Ti segue anche il figlio di presianza Ma presianza quant'anni ha Scusate Non puoi Devi essere preoccupato No io veramente Io non faccio più le live E basta No no Non è possibile Io credevo di essermi liberato Di tuo padre No scherzo E salutamelo Fai il finto morto Ah bruttissimo dai 35 36 Presianza Ah sì Me le davo molti di più Che peccato Presianza 40 Ah ok Vabbè È il momento sbagliato Per dirti che la mia proezia È la tua maestra d'asilo Non è vero Non avevo le maestre All'asilo Avevo le suore Ciao sono il tuo prof di algebra No Avevo professoresse È del 85 presianza Come? Che succede aiuto Presianza da 25 a 70 Sì Video youtube uguale basta Chiudo il canale Per via prof di No veramente Io Ma poi vuoi sapere come hai fatto a conoscermi Scusami Enrico io sono tuo padre Non è vero Trentasello Ma ragazzi si può vedere questo video Che si chiama Capitolo 4 Sly Cooper Thieves in time C'è un titolone quindi Sono tua sorella Mmm Presianza Vissa Ai tempi di Jack Dai su Guardiamo sto video Adesso dovete sapere Non si finisce Sly 4 Stasera Lo sapevo Che io ho avuto un periodo particolare In cui rigiocavo sempre questi tre giochi E aspettavo Sly 4 con tutto me stesso Non c'era niente che ce lo poteva far sapere Non si usava ripeto così tanto internet Ma i giornali E nessuno parlava mai di Sly Io speravo sempre in un probabile annuncio Cose simili Eppure A me presianza sembra uno Yotobi In versione professore serie C Ma che vuoi dire? Cos'è sto? Ho paura Meno male non siamo non sei mia sorella Sono i tuoi capelli pettinami ogni tanto Enrico Non è vero Enrico io in realtà sono una delle tue Bah Delle sette fidanzate Non è vero Non c'ho sette fidanzate C'è non nove In realtà ho la sorpresa E allora ti faccio Nooo Meno male che è partito questa sera E si va a dirgli su Sly 4 Non arrivava mai 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 Fino a quando Non vedo una pubblicità della PS Vita Con Sly Ladri nel tempo Sei proprio tu? Non è croma Non è croma quello che si è iscritto Non stavamo facendo niente di strano qua Sei proprio tu? Sì sono proprio tua sorella Lo hai scoperto ora C'è ancora il figlio? Sì No comunque voi sapete davvero se è croma quello che si è iscritto Se è uno che ha usato il suo nome Pregenza Best Villain Comunque sì Non lo stiamo criticando Stiamo semplicemente guardando Il video di Chromos Perché sono curioso di sapere cosa ne pensano di Sly 4 Perché per me È il miglior gioco di sempre Sly 4 Non è assolutamente Un brutto Sly E lui? Non è vero che è lui C'è ancora figlio Non me ne frega niente Basta Non ci vado più a scuola Non mi può più mettere i votacci Basta Non ho più potere sulla mia vita No vabbè Salutami Babbo che Una persona che sta molto a cuore Possiamo continuare? Mamma mia Sly Cooper ladri nel tempo Sly 4 E subito mi vado a informare Veramente questa volta uso internet E scopro che usciva a marzo Io scopro dell'esistenza Grazie a questa pubblicità Mi sembra A gennaio Sì dovrei averlo scoperto a gennaio A dicembre Mi sembra a gennaio E lo prenoto subito In edizione fisica per Playstation 3 Potresti parlare del gioco Non ci interessa Tutto questo Mi ricordo che all'uscita Costava solo 40 euro Sly 4 Ah sì? Comunque esce il gioco Davvero? Costava Costava Davvero? Cazzo Costava 39 euro? Che bella questa live Sì sì è bella Mi ricordo che all'uscita Costava solo 40 euro Sly 4 Comunque esce il gioco A me vale di più di 39 euro È brutto da dirlo Questa è stata l'esperienza più Non più brutta Cioè strana con uno Sly Cioè appena è uscito Sly 4 Io ricordo anche qui Purtroppo avevo la febbre E me lo giocai Ah C'avei la febbre Ho capito Però tante cose non mi piaccero All'inizio C'avei la febbre Fu scialba Niente mi piaceva Solamente diciamo la parte del Giappone feudale E quella di Tennessee Kid Cooper Mi hanno stupito Infatti ne parlerò in modo molto superfluo Vi basta sapere che Con la seconda run che ho fatto Il gioco l'ho capito di più E mi è piaciuto Cioè mi è piaciuto Sly 4 Non sarà mai al livello dei primi tre Meno male Meno male non al livello dei primi tre Insomma Il 4 Allora partiamo a sto presupposto Non è un brutto gioco Assolutamente Il problema È che il finale è una merda Perché tu non mi puoi Ti rasciare Eh no Eh no Vedi siamo lì Siamo lì Siamo lì I platform Non li devi giudicare Per la trama Prima regola del platform Non puoi giudicare Ecco Per quello mi sarebbe Mi garderebbe Che Naughty Dog Tornasse su platform Per evoluzionare Questo aspetto dei platform Ovvero rendere La trama dei platform Importante Come si fa Non lo so Ma Naughty Dog Potrebbe fare Tornare al platform Seguendo la strada Della narrativa Importante Per il gioco Vedi che lo dice anche lui Sì C'è Cromazio Oh Sono proprio io Ma sto aspettando Che mi fa scrivere Ma a quanto è messo L'attesa Due minuti Dieci minuti A quanto è messo E che se è troppo Arta L'abbassiamo No allora Cromazio Io non sto assolutamente Criticando Stiamo guardando Il tuo video Perché in questi giorni Sto giocando a Sly 4 Mi sta piaciendo tantissimo Io Un po' di background Io non ho mai giocato a Sly Nonostante sono un fan Total Sei anche abbonato Allora mi inchino Anche a te Grazie E anche te Potrai essere estratto Fra quelli del giveaway Di settembre Allora stavo dicendo Io non ho mai giocato a Sly Però sono fan di Ratchet E di Jack E ci sono cresciuto Quindi conosco benissimo Ratchet e Jack Non ho mai giocato a Sly Perché non mi ha mai attirato Ora questi stronzi Finalmente mi hanno convinto A giocare a Sly Ho giocato il primo Mi è piaciuto Ho giocato il 2 Mi ha fatto schifo Ho giocato il 3 Mi è piaciuto di più del 2 Ma non quanto il primo Ho giocato il 4 Ed è uno dei più bei platform Che ho mai giocato Quindi il fatto che io Li ho giocati tutti quest'anno Di sicuro Mi ha forse permesso Di giocarli Senza tutto Quel substrato Di nostalgia E di valutarli Effettivamente Per quello che sono Non voglio dire Che il mio giudizio È più oggettivo Del mondo Però probabilmente Già il fatto che Non c'è di mezzo La nostalgia È probabilmente Lo rende un po' più oggettivo Comunque più distaccato Nel nome di Sly 4 È un gioco superiore Ai primi 3 In tutto Ma di Tama È proprio un bel gioco Sly 4 Proprio bello 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 C'ha dei difettini C'è Anche a livello tecnico C'è un po' di scatti Però è una bella grafica Un bello stile La storia è carina C'è il fatto che Lo so che finisce Con un cliffhanger Perché Dovevano fare Un DLC Poi tagliato Che dove c'era Il vero finale È vero È la storia È mozzata Però Non è che si giocano In platform Per la storia La storia è totalmente Accessoria Un platform Cioè se no Anche Mario Dice la storia A me mi porta Una sega Della principessa Capito Eh sì Ma Capito La storia Il platform È il gameplay Scusate Non mi sto leggendo Controlla l'attesa Ecco Il regalo Di Kinder Sorpresa Io tutti e tre Al massimo Ti capisco Per tutti Scusate Fandemi leggere Perché prima eri blu Ora sei viola Vabbè che ti chiami croma Però Anche meno Nel senso Poi vede Non leggo Per forza Io tutti e tre Al massimo Ti capisco Ah ah Per il due Sono contento Che qualcuno Faccia schifo Ah ok Sei il secondo In tutta la mia vita A dirlo Guarda Qui in chat Ce n'è tanti Che il due Mi ha fatto cacca Quindi non sono solo io Si va alle botte Si va alle mani Te lo dio Con Sly 2 Non transigo Ragionissima Sono uno Che empatizza Troppo con la storia Vabbè ho capito Però Vabbè Vediamo il tuo video Comunque devo finirlo Il 4 Io lo so Che volevano fare Un DLC Ve l'ho detto Anche in un video In cui parlavano Dell'Egitto Era già stata scritta La sceneggiatura Dell'Egitto E cavolo Era stato scritto Anche Sly 5 Cioè il primo capitolo Che appunto Era questo Dell'Egitto Visto che Sony Aveva negato Per un DLC Sanzaru Poteva fare Molto di più Ma si è dedicata Ai giochi War È riuscita a vincere Il gioco dell'anno Per quanto riguarda Il VR E quindi ha Accannato Per chi non è romano Accannato Non significa Aver cannato È un po' Insistitare Accannato 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 Significa lasciare Quindi ha lasciato Tutto quello che Fosse Sly O comunque altri giochi Tutto quello che non c'era In cavolo a che fare Con il VR Sì ma parlaci del gioco La licenza Ciao Non ce l'hai più La licenza è Sly Amico mio Devo fare giochi in esclusiva Eppure Licenza che è tornata Sucker Punch I diritti sono sempre di Sony Ma la licenza è tornata Sucker Punch Con questo avvento Anche il film è sparito Secondo me Sì il film Lo vedremo su Playstation Studios Sappiamo che Sony Sta sviluppando Altre esclusive Ragazzi Se volete la mia C'è Sly 5 in mezzo O comunque sia Un remake Dei primi tre capitoli Come è stato fatto Per Mass Effect Capito Ah era un video Del legame Non era un video Dove spiegavi Perché Ah ok Non era recensioni Vari Ok ho capito Vabbè Sì di sicuro Sarà interessante Parlarne Prima o poi Però ecco Secondo me Il 4 è Veramente superiore Sono tante cose Cioè molto più maturo Comunque devo Guarda Prima o poi magari Si organizza Si vede Fa una chiamata Ora stasera Devo vedere Di finire qui Che sono sempre Al mondo medievale È molto strano I miei strumenti di lettura Indicano che Questo posto Produce molta più energia Di quella che serve Al forno per cuocere Sarà un impianto segreto Per le giardelle Perché non la pianti Con queste battute E provi a cercare Un po' di legno Ok Le giardelle Non posso Spontare C'è scritto Custom Ma non mi lascia Vedere Nessuna parte La durata Impostalo su 2 Così si resetta Una bella light Tolkien Sì Però quando l'ho finito Bellissimo video Complimenti Io ci rimando Sì così male Per il cliffhanger Che a tempo No ma di sicuro Sì Soprattutto quando Sei più piccino Che la storia La prende molto Sul serio Io mi ricordo Anche Jack La storia È nota Anche di dire Poi L'anno scorso Mi sono rigiocato Il 2 e il 3 E ho detto Cosa Cioè la storia Non è che sia un granché Nel 2 e il 3 Cioè Ci sono anche Delle cose Buone Però ad esempio La Spoilerata Non diciamolo Però la Trovata Dei precarzo Del 3 È una puttanata Che andrebbe Veramente retconnata Però Devo andare laggiù Colpisci? Ah Questo posto Mi fa venire Fabi No Ah Devo chiudere qui Cazzo Rozzi Allora Legno Bruciato Bello Tutte le cose C'era Proprio il legno Dal forno Va a tirar fuori Ma scusa Non poteva Spaccare il tavolo E prendere il legno Invece di tirarlo fuori Dal forno Bruciacchiato Stasera Riusciamo a finire Le 4 Sì Forse Come ho fatto A trovare Il nostro Cove segreto È vero È vero È vero Perché noi stavamo Parlando del tuo video Quindi qualcuno È andato E ti è venuto A scrivere E ti ha detto Ci stanno Offendendo Ti stanno Parlando Male Dobbiamo Scoprire Lui lo scopriremo Chi è stato A fare la spia La cosa E precarzo Del 3 Non mi dispiace Perché tutta quella roba Dei primi due Si prende fin troppo Sul serio E invece Secondo me era bello Perché era un Prendersi sul serio Cioè La cosa E precarzo È la religione Del mondo Jack and Death È l'unica cosa Che ha senso Che si prenda sul serio Perché Tutto il resto Di Jack and Death È molto Non dico ironico Però è molto Scherzoso Diciamo così C'è molta ironia Anche nel mondo Di Jack and Death Quindi il fatto Che i precarzo Erano effettivamente L'unica cosa seria Sacra Di quel mondo lì Lo rendeva Molto Molto bello Secondo me Secondo me Non andavano Proprio mai Svelati I precarzo Proprio Non andava mai Approfondito Dovevano restare Nello sfondo Gli antichi Riccardo Non si sa Cosa sono Cioè se non me L'ha trovata Di Jack 3 È proprio una cazzata Proprio sbagliata Mi spiace vedere Le opinioni contrastanti Sì ma infatti Finché Si argomenta Non penso tu posso Fini No ma io non voglio Fini voglio finire il mondo Cioè eri tutto a posto No Fra figliolo Del prof È andato via È andato via Il prof Chi fa la sfida Non è figlio di Maria Ma è figlio di Santana Per me l'unica cosa Non sede De Jack Sono i precarzo Quella roba Una figata Dopo i due giochi A parlare Mafiosi Dittature Guerre con noi Sì è vero La mappa Cazzo La mappa No Ma no Mi fa la missione Sì Che palle Vabbè Dai fatemi gioare Oh non c'è versi Eh non c'è vero Mi fanno gioare Non c'è versi Oh vi ricordo Che giovedì C'è l'evento Sony Eh siateci Giovedì sera Si guarda le live Vede di Sony Iniziale Ehm Poi c'è un gameplay Sto già anche Non lo so È sempre la stessa cosa Sono stufo Di fare scherzi Di carnevale Al giro Sì Ma ricordi La gara di tiro Con l'arco Dell'anno scorso Quando Primer Si è sembrato Il piede Con la freccia Ah 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 Oh sì Le era valsa la pena Credo che verrò Già Pensavo di mettermi Degli stevani di pelle O qualcosa del genere In caso di frecce E paganti Sai Bella idea Perché non trovi a passare Dal canzolaio Sa cosa annuncia Lo scopriremo Voglio vedere le reazioni Infatti Il propucini Non ti diceva mai Di aprire la mappa No A parte di scherzi La croma Fa parte del giveaway È capace Vincere lui Arso in piedi Prende un trofeo Sì Cosa Sì Però mi gira A coglioni Che non ho aperto La mappa Dai fate giochi Oh mi dispiace Cioè stasera Avrei voglia Di legge commenti Però bisogna Che gioia Perché voglio giocare Mi dispiace Ora c'è anche croma Non posso legge Non riesco a starvi dietro Il mio antenato Per ora A me è piaciuto molto Quello giapponese Luigi lì E anche Quello Quello del west Sì Per ora ho visto quelli Quindi Sono curioso di questo qui Del medievale Give away di cosa Eh c'è scritto lì Un tempo Di spiegare Di nuovo Sono una persona Molto impegnata Oh Ah ecco qui Ora stavolta L'ho preso Non sono tale montatura Ma guarda bello Guarda bella luce Ma vedi perché Dico che è bello Sto gioco Perché è bello Ok Lì ci deve per forza Essere della pelle Trovala Ma guarda bella Cioè la direzione Artista di sto gioco È veramente Tanta roba No via Io devo registrar Perché questa roba Poi deve finire Per forza In un video Questa roba Hai pazienza Non posso farne a meno Però No Cioè è incredibile E che c'è il buo Ah posso andare Da tutte e due parti Non mi sembra La bottega Di un ciabattino medievale Sì Neanche i negozi Di scarpe da donna Sono così infernali Scrivete Jack Che se leggo Jack Con la cimmi Mi taglio le palle Ti chiede Ma le ho risposto Ho detto per ora Non lo so Mi sono garbati I primi Due Forse quello del West Però mi è piaciuto Molto anche Luigi Come gameplay Devo fare Non ho capito Se avevo fatto Eh dio Ah 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 Ecco Vadoan Blatte Ma questi Sono fissati Con i laser Guarda che bellezza Guarda che bellezza C'è proprio Ogni ambiente studiato A proprio Dettaglio C'è un'attenzione Maniacale Veramente Per tutto C'è siamo A livelli altissimi Proprio di produzione Guarda che cazzate Cioè è meglio Secondo me Di Di Superiore a tutti I recetti In clan Che PS3 Questo giovi Che bellezza Posso confermare Che la mostra Non ha Di me Effetto il caffè No 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 Ho postato Un video Sul reddit Prima di staccare Potessi vedere Il video Per favore Dopo Ora ora Se me lo ricordo Dopo Perché hanno cambiato Doppiatore a slide Probabilmente Perché voleva Sordi Però io preferisco Sto doppiatore Per esempio Banalmente Io preferisco Sto doppiatore Di livello Che oggi ho rigiocato I che hanno Sto gioi 2013 Io oggi Ho rigiocato Il 3 Perché l'ho platinato E Ho ritrovato Appunto lo slide Con la vecchia voce Mi garba A me quel doppiatore lì Doppiatore di Brock Su slice Non mi ci sta Per me Sto per sbagliare Unigma Su Little Nightmare Perfetto Juli28 Alla prossima Il prossimo messaggio Sì Ti si banna Perché Non va bene Ci sei riuscito Sì Come faccio a scrivere Il mio reddit Ti scrivi Ti registri Non è difficile Allora Riformiamo a fare La missione Che devo farla La mappa Assolutamente Non lo faccio presto Spese pazze No 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 È tutto Devo rifà tutto Vabbè Lo farò Poi Che Su slice Sta bene Un ballo Non è vero Madonna Eri che incazzata Sì Perché Uno arriva A scrivere Cioè io ti banna Mi pazienza Questa vuol dire Scrivere Che sai Due anni Vai all'asilo Invece di venire qui A scrivere commenti Borsaione movimento Con setta slide Di continuare a muovere Oh Ganzo Che è Con setta a mare Fara uno sprint Mentre carica Ok Mentre carica È venuto il rumore Buh Vabbè Mentre scenario Tiene venuto Croce per infigere danni Dall'Arto Oh Ah fa la schiacciata Lanzo Non ho capito Via Non puoi sponsorizzare Un'esclusiva Se sono Sì Quello di sicuro Il marketing L'hanno L'hanno Buttato di fuori Sicuro Cioè Se ha venduto poco Non è perché Il gioco non vale Ma è perché Il marketing Non ha avuto Abbastanza presa Che dai ha avuto Sly 4 Io penso Un 9 Siamo lì Siamo le 9 8 e mezzo Ma Ma lì Cioè Veramente Un giocone Stavere Però Io non sono Perigianza Quindi Scusate Mondalità Rage Vedi tramontato Anche per questo motivo Vecchio Usi di Sly Non mi dispiace Quasi Cosa Cosa Scritto Baldi Tutti Suppesori Io però Stasera scrivete troppo Se non sei moneta Come sta su Sly Eh oddio Poteva starci bene Moneta Però Giustamente Visto che Faceva già Jack Perché Non Non lo fa Però secondo me ci potrebbe star bene Moneta Non lo so Oddio forse Non lo so Che ne so io Che ne so Sly 3 Sly 3 Sly 4 Sly 4 Indagio Io lo so Luigi Dai lo so Luigi Sarai potuto Sarai potuto diventare Il più grande trapezista Sì certo Comunque il tendone E tu col tuo guscio Saresti potuto essere Quello che sparano ogni sera Con il cannone Certo Cannoni Senti Controlla quel tendone È in una posizione strategica Da lì possiamo tenere d'occhio La situazione Ma certo però farlo pagare 39 euro Non è giusto 39 euro Ma perché 39 euro Cioè io pensavo Almeno 59 Fosse Sto giusto Boh Boh Non lo so Io Boh Cioè Non abbiamo usato 39 No 29 Medieval Remake di Medieval Boh Che cosa fa Io non sto attendo Sto seguendo I dialoghi però Accenta a voi Io Sono a me non piace La struttura dei velli Eh Boh A me sì A parte è come il 2 Quindi non è che Questo è da 60 puliti Maggio cosa uno Sly Non so Considerano gli altri Questo sembra bellissimo Sì Cioè Considerando che 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 Nintendo fa pagare 59 e Zelda Però è Zelda Chiaramente Cioè Zelda Rimaste Quindi Sì Andare nel tendone Per trovare Un antenato Eh mamma de Fammi vedere Nonostante il prezzo di Riot E' stato comunque un flop Eh appunto Non mi è impressione Non arriva a scrivere Nnnnnnnnnnnnnnnnnn Cioè io ti bano Mi pazienza Non arriva a Scusa Non mi è impressione Su Sly 1 Sly 1 Parla piano E poi Sì parla meno Sì Riosci Io dico Luigi Scortami Io non vi leggo più Basta Andate a fanculo Allora Allora Perché poi Mi mangio a fanculo Gente che capisce Molto lo spirito Ah no Ma devo andarti là Devo andarti là C'è un modo Per rivedere Il filmato Ok Sly Sali su quella torretta E potrai usare Il nuovo travestimento E il giocattolo Che ho realizzato Con quel materiale Oh Quindi c'era Un motivo Naturalmente Ah E' lui che ha creato Chi ha creato Non sto proprio capendo niente Cosa cazzo succede Per P Torriamo al Cuovo Devo rivedere Il filmato Devo rivedere tutto Mi sono perso Un punto cruciale Buona serata a Croma Ciao Se vai via Ciao Ci si sentirà Come fate a non votare Merluzzo Ma io voto il personaggio Non voto mia Merluzzo Però voto il Merluzzo Bravo Però vai Il personaggio Bellino Però Non secondo me Luigi è più bellino La mia fidanzata Si lamenta Che preferisco Guardare te Che passare la notte con lei Che ne pensi Digli che Se passasse la notte con me Si lamenterebbe ancora meno No Allora Si è iscritto Alestro Alestro Grazie Sia buona Perché due Perché ne è uscito due Vabbè Grazie Sei mesi Mi sa che piango A forza di insulti Perché ridete Cosa ridete Cosa ridi Ma perché ride la gente Cosa ha detto Quali dubbi sulla trama E voglio vedere filmato Mi son perso Il dialogo Tutto lì Ma no 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 Vorrei prima Vorrei prima vederla Magari brutta E io no Scusami Metti Metti in dubbio Le mie capacità Ma come prima sette Poi nove Ora tre Ma me ne dai una o no Io tre le voglio Io ho bisogno di tre Io sono poligamo Quindi tre Ne ho bisogno di tre Oh Ciri al coso Guarda Forse ci è di nuovo Il filmato Quando vado a quattro Una te la do a te Ora per ora Io ho bisogno di tre È proprio una cosa Fisiologica mia Fammi sentire Fammi sentire Ok Sembra che Gallet Sia stato nascosto Da qualche parte Dentro i tendoni Del circo Sly Ho visto una piccola Apertura in alto Lassù In quel tendone Lontano Ma non ho proprio idea Di come tu possa arrivare Fin lassù Ah Il circo Sarai potuto diventare Il più grande trapezista Sì certo Comunque il tendone E tu col tuo guscio Saresti potuto essere Quello che sparano ogni sera Ma come si sono animati bene Cioè non sono animazioni di base Proprio fatte ad hoc Per il momento Possiamo tenere d'occhio La situazione Però non ho capito Come fanno a sapere Che l'antenna si chiama Gallet Accidenta a me E parla Ok Quindi il travestimento L'ha realizzato Bentley Naturalmente Non ho capito Quando capiscano Che l'antenna Si chiama Gallet Accidenta a me E legge i commenti Invece di stare attento Alle Alle avvenimenti Aspetta Agli avvenimenti Del gioco Sembra che le guardie Abbiano lasciato Un sacco di munizioni In giro Quell'arco Che ti ho costruito Andrà benissimo Qui Premi il tasto L2 Per cambiare Il tuo equipaggiamento Ma me lo da così Tranquillo No Bene Ora Prendi una freccia Dalla cesta È bellissimo È bellissimo È Robin Hood Praticamente Madonna Non ti resisti No ho sbagliato Sly l'arco lancerà una freccia Con attaccata una corda Usala per creare un collegamento Colpisci il bersaglio Attraverso l'apertura Tieni premuto il tasto R1 Per tendere l'arco Poi rilascialo Per scoccare la freccia Ah posso anche controllare La freccia Però me la fa Fappi in tirà È carino Che influirà decisamente Sulla loro Aerodinamica Carino Puoi anche usare La leva a sinistra Per pilotare la freccia Mentre è in volo Colpire gli obiettivi Movimento Sarà facile Wow Questo gioco Secondo me La sparo grossa Secondo me È la cosa Più vicina A quello Che sarebbe Dovuto essere Il seguito Di Jack and Dexter Questo gioco qui Perché Forse è l'ibrido Davvero perfetto Fra Jack and Dexter E i Jack 2 Cioè con la struttura Grande A mappe Andiamo a prendere La bottiglia Ah non ho più Non ho più Il coso Non ho più Il volante Lì E lì c'ho anche Mia sorella Che ti vuoi conoscere Ma va bene Vabbè Puglio tutto Scherzo Se prendi Il centro Da soldi Cosa vuol dire Da soldi Ah Quello che doveva essere Twin Sanity Vabbè Però dicevo Si è capito Come hanno fatto A sapere Che si chiama Gallet Gallet Il nuovo Parente Ricco il losso Puglia tutto Prende tutto Perché chi non riesce A accontentare nessuno Ha bisogno di tante persone Oppure io Accontento tutti E quindi voglio essere Voglio essere gentile Con tutti Io voglio far Voglio diffondere il bene Io non è che diffondo Possiamo sbloccare La cassaforte Cioè Filmate iniziale Dove lo spiegano Ah è vero È vero Quello che si è visto ieri Ha ragione Contattando un dream È vero L'ho detto ieri sera Ha ragione Però come fanno A capicchia nel tendone Perché dice Probabilmente nel tendone Perché Come l'ha capito Posso conoscerti Anch'io a questo punto Va bene Va bene Tutti Tutti Loro vengono al futuro Non conoscono le antenate Sì Questo posto Sembrava più piccolo Sly La scansione Indica che il terreno È disseminato Di rilevatori Di movimento Significa che dovrai stare Alla larga Dal pavimento Volevi fare il trapezista È la tua occasione Grande Senti questo nome d'arte Il pavoloso Cuperoni Eh? Eh? No? Bello? Mi sembra un brutto Neologismo Scommetto che Gallet È tenuto in ostaggio Sulla piattaforma Perché ha fatto Accento bolognese? Ok genio Vado subito Chilling Ma guarda belli Sti disegni Nooo Però un carica Perché un Ah perché la devo prendere Sempre Ok Prendi l'arco Prendi l'arco Quindi devo anche No 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 Se faccio 100 Mi dà sordi Eh Non è facile Good Good old family entertainment Il buon vecchio Intertenimento per famiglie Ma è meraviglioso Perché mi fa andare di qua? Cosa c'è? Capirai quante monete Peccato Non sopporto L'odore di pembiccia Cascato di sotto Ma che figata Sì Slywood Questo Sì O Robin Cooper Non lo so Slywood È più bellissimo Madonna Sto gioco È qualcosa di Incredibile Peccato Quanto mi Mi rode Veramente Quando vedo Sti giochi Che però Non vengono Conosciute Per quello Che meritano Davvero Questo si muove Addirittura Io Eh Pianzo Ok Sì Faccio la maschera Aspetta 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 Mi sa che ho capito Mi sa che ho capito Lo posso ritirà? No Non lo posso ritirà Mi sembra che lì ci sia il Il bersaglio Ah c'è qua Ok Perfetto Però aspetta Perché devo guardare la mappa Mi stavo scordando Dove? Ah Giusto Giusto Ci sta un botto Che figo Sì 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 Centro Centro Uh No Non l'ho preso Sarà bello però Potevo usare anche l'arco Come arma Proprio Possibile non si possa Non posso Non posso sparare Tranquillo Senza Cioè C'ho l'arco Non lo posso usare Come arma Si vuole un po' Una stronzata Grazie Meno male me l'ha detto Sì Me l'ho accorto Infatti Manda l'anca a fanculo Sly Ne tanto Lo potresti fare Sgro Attenzione Attenzione Mamma mia Sono un camion Dai evita Le camionate Ad ogni costo Grazie Mister Ovvio Mister Ovvio Lo prende per il culo Quindi Non deve piacermi Un gran che Finalmente Sly Inizia a rompersi Coglioni Di mister Mister Saponetta Cos'è c'è qua giù Se qualcosa Vi è No Non c'è niente Fan Non vi sto leggendo Perché sennò È finita Olè Aleo Che sfettoro Mi piacerebbe sapere Dove cadono Le palle di cannone Che genere di circo è Con tutte queste Guzzi Sì in effetti Nooo No 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 Costuma Ma guarda canzo Sai che io da piccino Da piccino Avevo un costume Di carnevale Così Da Robin Hood Mi guardavo un fottio A carnevale Mi vestivo C'avevo anche il cappellino Da Robin Hood Così C'avevo delle foto Ma Piccino piccino Ma è meraviglioso C'è una maschera lì Mmm Ho presa con la maschera Allora Aspetta Aspetta Fermo 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 Come si piglia La maschera Ah ci dovevo No Sbagliato Beviamoci il costume Mazzo Volè Torniamolo No Fermo Perché non mi fa vedere Via va Fini male Via Finisce male Oh bravo Ah è dove ero prima Perfetto Bellissimo Olè Pesa sta cazzo di cosa Torniamo indietro Mori Olè Sa che mi riporta lì Perfetto Certo il tendone del circo Non sembrava così Grand Grand Oh non vi devo leggere Non vi devo leggere Leggo dopo Leggo dopo Recupero dopo Andiamo Ho quasi perso La mia tenuta Invernale Dovrei provare Vengalo Quello Ah dove ero prima Ma guarda Si muove anche La corda Eccolo Eccolo Salute amico Ma non mi serve Un salvatore La voce di Reshet Solo Indugiando In attesa Del Momento Strategico Opportuno Si Quello E Da quanto tempo Sta indugiando Ebbene Penso sia una quindicina Di Giornate Ok Se vuoi restare qui Con le cannonate E gli anelli Infuocati Va bene Io torno al covo Degli altri Per la prossima mossa Non hai tutti i torti Cavaliere Oh si Sento che il momento Sia al ben giunto Andiamo all'arrembaggio E che possiamo Sconfiggere il malvagio Tiranno Che mi ha tratto Prigioniero Wow Una cosa per volta Per cominciare Torniamo al covo Ole Fine Bene Bella 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 Allora Recuperiamo un po' I commenti The Slywood E figata Dovete vedere il prossimo Tra i vestimenti Le frecce di Sly sono Figate come armi Tutti i maschi Pendeciando dal sol Esatto No ma Puoi controllare la freccia Che ricordo Un certo gioco No 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 Appena Sir Gallet Si fu calmato Tornammo al covo E venimmo a sapere Tutta la storia L'intera regione Era governata Con pugno di ferro Dal temibile Cavaliere nero Un personaggio Dalle origini Misteriose Ma dotato di potere Potenza tecnologica Impressione Ma questo è Medivore Che stava Un nuovo tipo di guardie robot Spietate e instancabili Nelle ronde Ah c'ha le guardie robot Gallet era stato catturato Mentre cercava di affrontarle Tutto da solo Ventri cercò in tutti i database Criminali esistenti Senza trovare nulla Le domande aumentavano Le paradox Era riuscito a trovare Un alleato in questa epoca E come era riuscito Il cavaliere nero A creare questi mostri meccanici Quando spiegamo a Gallet Che eravamo veramente Non so se ci credesse Ma non diede peso alla cosa Cominciò soltanto a far miticare Che occorreva dar battaglia Al nemico E restituire ai Q Per l'onore Quel tizio Non aveva proprio Meze misure Mi rendevo conto Che avremmo dovuto Tenerla a freno Che non avessimo capito Cosa stesse succedendo Cazzo Bene Dicevamo A fine mese Scene per i romics No Non credo Non credo Perché no Però Luca si Un bel cash così Porca pazzo Eh si Enrico L'asso Pi a tutto Ok Questi avevo già letti Ehm Ehm Ai l'ho Eh Dissing Enrico Ok Posso Come Anche io Che stavo Già letto Enrico devi dire Quanto vuoi Per la tua donna Con il tono Di Jake Dei Bruce Brother Non mi ricordo Loro vengono al futuro Ok C'è fine Ok Distrutto cosa Io scelto il mano Perché il bene C'è Enrico Devo recuperare tutti i commenti Pof Che ti guarderà E' fine di te Perfetto Uccideresti il tuo peggio nemico Per un G4 No Dematte 001 Diventò canonico Grazie Anche te sei In lista Con Per l'estrazione finale Grazie Per il giveaway Il cringissimo Cooperone Ok Sly bolognese Confermato al 100% Mentre Apparenti italiani Si incazza Mi volta che spy Sly parla in dialetto La mappa l'ho aperta Sì L'ho aperta Cooper sei tu Ma è finito Sly Che porterai Voglio fare guacamele Guarda là Tutti hanno scritto Mappa Per mezz'ora Ok L'ho visto Finalmente Guacamele Si fa La settimana prossima Mi sa che Il maggior parte De la gente Che non l'ha comprato Ha la stessa Identità Di te Con Titans E Mutant Si basa sul design Il problema E che Titans E Mutant Sono un gioia di merda Mappa 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 Forse un po' eccessivo Ok Tra tutto Legge Slywood Che è grande Ok Con un curioso Che sia Sly Che Robin Hood Siano ladri Ma Forse è proprio Quello Il nesso Che dici Facciamo dimenticare Ok Vale Mi stai sbattendo Ripetutamente la testa Su Control V Datevi i soldi Qualcuno faccia qualcosa Ok Qui quando Non leggevo Che dovevo Ok Ho fatto da solo Benissimo Perché Perché non Mi posso Abbonare Con Prime L'abbonamento Mi è scaduto Oggi Mi dici Che l'abbonamento Con Prime Non è disponibile Cosa faccio Ma C'hai il quadratino Quindi vuol dire Che ce l'hai collegato Basta Tutto abboni Non ti puoi abbonare Sono scuse Ci vuole il comando Mappa È vero È vero Ci vorrebbe il comando Mappa La boss Fai di questo mondo È a livello Di Elgef Quindi sarà bella A me Gale Fa troppo rire Come parla Le frecce comandate Sono fissime Ah Non mi ricordo Proposto Un nuovo comando Mattona ragazzi Comunque Il boss Fai di questo mondo È a livello Ok Da piccino Mi vestivo Da pirla No è vero Non mi travestivo Ok Io da piccino Mi vestivo Da spiderman Io vuol sapere Chi è un altro streamer Che si mette A leggere tutti i commenti Gli ultimi dieci minuti Può fare una chiamata A vita Così No Perché poi lo trovo Che fa la cacca E mi brontola Io avevo un costume Da pagliaccetto Sentitelo Cosa Io da bambino Mi vestivo Da Sly 2 Ma la gente Mi prendeva per il culo Perché sembrava una merda Questo è Ren Non sono io Cinico Come le bestie Puoi fare una videochiamata No Sly si è fatto Un culo di minuti Alla barba Quest'antenato Ok Sono fidanzata Del tizio di prima L'ho lasciata Quando vai ci sono Va benissimo Scrivimi Cos Cavaliano Nero e Zaro Che sono una sorella Ragazzo Ancora Mi è venuta a te Quando facciamo Perfetto Ti chiami anche Giorgia Quindi benissimo Scrivimi Raga basta Sì Sono finanziata Basta Un po' Non è neanche la stessa No è lo stesso Ok allora Farò il metto È vero Ho letto veramente Sto commento Basta per favore È già aperta la casaforte No Ora andiamo a aprire Sto abbonato Sto abbonato per sette mesi Hai una ragazza No I comandi Ok È surreale Questa situazione Anche a me Non riesce a fare Il sub Col Prime Anche se è scaduto Una settimana Mi dice che sarà disponibile Il 12 Aspetta Il 12 Comprete il tuo canale Interessante Anch'io sono giocatore Di vecchia data Mi garba anche Ah ma quindi Mi hai conosciuto stasera Puccio 89 99 Cioè te quindi sei Figliolo del mio professore Però mi hai conosciuto stasera Grazie a un video Del pregianza Lo vedi quando io Mi devo fa cazzi miei Lo vedi Incredibile E ripenso Sei l'unico Una videochiamata A video diventa Una videochiamata Una videochiamata Una videochiamata È vero Stasera siamo Raggiunti il Twin City Ho reoperato tutto Credo Ma che c'è Aspettate C'è delle emergenze C'è delle emergenze Devo controllare Nella regia Meglio per i GBX O da doanza Gesù Scusa No 40 messaggi Come posso fare ora Come posso Ok Vabbè Poi mi spiegate Non so cosa sia successo Ma probabilmente Siete stati cattivi Comunque Puccio Si vuol dire Inzuppare In lingue nordiche Però Puccini È un cognome Come stanno i gatti Bene Quei poi che sono ancora vivi Non panicare Non sono Saremo così Ok Proseguiamo Allora Non farò mai più Una cosa del genere Premi due volte R1 Per usare la Clothest Line Con un nemico Cos'è la Clothest Line Due volte R1 Si mi dà un sacco di potenziamenti Che un meriordo neanche Da quanti sono Cos'è Slime Lo sprint Mentre carica Tenendo premuto R1 Uno infliggono danni Da esplosione Usando la grilla Con L2 Per usare Ok Lo devo riordare Di fare Uno sprint Da qualcosa In mano Poi c'era lui Che fa Croce Vabbè Andiamo 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 Per usare Mario Slime 4 Una bella raga Basta Però Un po' sembro io Veramente Cosa esce Da Xbox E pregianza Basta Una nuova mostra Di resto Vi leggo più Tanto Scrivete Cazzate Oh Nuovo costume Da Grilla e Slime Olè L'ho già usato prima Quindi Perché mi Bello 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 Andiamo Ad aprire La La cassaforte Ci andiamo vestiti Da Da lui Non c'è Il poteri Non c'è All'attacco Lui Triangolo Non ha L'attacco In alto Lui Non posso Usare L'arco Cosa ce l'hai A fare L'arco Se non lo Posso usare Che cazzata Vai a prendere Il tesoro A nord Col costume A samurai Sì Scriviamo cazzate Ma ti facciamo ridere Insomma Lo dobbiamo scrivere Mela veritata Esatto Enrico ti prego Dopo Di andare su reddit C'è una perla Che ti farà morire Le risate Se vuoi vado ora Anche se non c'entra Niente Come cazzo è falso A proteine Raman legend Ci ho messo sei anni La tenacia In realtà Non sei anni A diritto Però si Ci ho messo Tanta tenacia È una prova Di tenacia Eccola No Ho sbagliato Vai Vai su reddit Al volo Va bene Ora vado Se non mi fa ridere Vi vanno tutti Faccio una live Da solo Te l'ha chiesto Riccardo Ha detto dopo Ora ci vai dopo Ok Chi è Riccardo Mi fai favoritismi Chi è Riccardo Scusami Riccardo Chi la dura Platina Raman Rager Riccardo Chi la dura È È della Disney Tutte coppie Di diamante Delle sfide Sono impossibile Io credo Delle coppie Di diamante Abbiamo prese 3 o 4 Però si Sono impossibili E no Forse 3 2 o 3 Però si L'unico modo È farle tutte D'oro Però ci vogliono Mesi È tutto pronto Sì tra l'altro Non ho capito L'oggetto Che mi ha dato A cosa serve Probabilmente Serve a vedere Gli oggetti No A cosa serve Gli oggetti L'oggetto Andiamo a vedere Nel co Via Fare tutte D'oro Sì Ma d'oro Sono fattibili D'oro Sono Fattibili Un certo Duna Difierta Massimo È il male È abbastanza Vediamoci Reddit Che ho fatto Ho chiesto Riccardo Ha detto Dove fuori Ci vado Ovviamente L'ha chiesto Ren Alle dp 11 mesi Grazie Grazie Ho visto Due secondi Il video Reddit Ed è bellissimo Ma se fa schifo Madonna Vi banno Tutti Proprio Per dimostrare Appesianza Che Jack È un capolavoro Portano in live Ma io non ho bisogno Di dimostrare niente Appesianza Allora Vediamo È questo Presumo Finalmente ce l'ho fatta Riccardo Ok Dopo due giorni di editing Vi presento Zero di X Contro Panda King Allora io metto Mi piace Sulla fiducia Se clicco Si vede più grande Si Ho scienvito Te ne puoi andare Te hai mai giocato Resident clank Nexos Brutto Ma che mordì Ma è sempre real È mai giocato Reggit in blank Nexos Reggit Brutto insolente La pagherai cara Però per spedirti All'inferno Userò La mia nuova Técnica Di fuola Non me ne frega Un cazzo Cazzo Fatto questo Quale Kung Fu Panda è Perché non è il primo Vedrai Non l'ho visto tutto Ho visto solo il primo Ma dura Dura Quattro minuti Dura Ah il primo Bene Non me ne ricordo più La micia È accesa Ma che seguro io devo spacca qualcosa però ci dovevi mettere la voce di vita sul panda quando si letiava oh no ragazzi mori ragazzi buon'estate tu coglioni hai rotto tu coglioni hai rotto non ci credo che cazzo finito platinato ha detto che nella quadrilogia di crash preferisce quattro ma dario non ci capisce una sega di crash ma che giochi acidi del cazzo che c'ha lui ma poi sembra la regola d'oro l'emiliazione è stata un bivio non me ne frega un cazzo palme di tuono ma perché c'è anche il volume ma il volume che ho ma perché ma perchè il lupino c'era il lupino c'era il lupino c'era il lupino ma perchè ma perchè ma non 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 no no sono no non può finire così non è finito non è finito è esplosivo è finito così a dire quelle cose grazie a valeriti speriamo di bannato a volte poco prima non lo metti mettilo in vendita non lo voglio mettere in vendita ma secondo me se qualcosa c'ho da vendere ma no no è bellissimo mettilo su youtube mettilo su youtube no mettilo su youtube davvero cioè non lo teni qui su reddit e basta caricalo sul tuo canale scrivici cose non lo so ho scelvito ho scelvito te ne puoi andare bello io sono panda king te hai mai giocato reddit and clank nexus brutto insolente la pagherai caro però per spedirti all'inferno userò la mia nuova tecnica di fuola non me ne frega un cazzo cazzo secondo me anche in questo pezzo qua ci volevano altre battute ora non voglio correggere perché è bellissimo però tipo qua mentre corre ci voleva qualcosa qualcos'altro cioè i buchi devono essere riempiti anche qui tipo scusate no non lo so a qualsiasi posto la miccia è accesa ma che salordino ma come ingrato ma come ingrato ti ho detto solo che quei punti lì ci avrei messo arte rova però è bellissimo sono riso veramente quando c'è avete detto eh vede ridi secondo me ho detto no non fa ridere e invece faceva ridere davvero chi lo ha fatto merita la medaglia della viz La vizio Io devo staccare qualcosa Questa mordì quando l'ha detto Non mi ricordo quando l'ho detto Non mi fa passare Non mi fa passare Oh no ragazzi Mori Ah ma quindi lui saltava sulle mattonelle volanti Come puoi si Oh no ragazzi Mori Ragazzi Vip 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 Tu coglioni hai rotto Non ci credo Chiudito Pela di là Mario ha appena detto Che nella quadrillogia di Crash Preferisce quattro Ma Dario non ci capisce Una sega di Crash E beh che giochi agili del cazzo Che giochi L'umiliazione è stata un bivio Non me ne frega un cazzo Palme di tuono Oh no Oh no Ma perché Ma perché Ma io Ma io Non ci capisco Non ci capisco Adon Possibile Non è possibile Sono fatto male Sono fatto male Ah no L'avete messo Steso per terra Uno scheletro Che fa così Leva la mano Non ho voglia Ma che interazioni sono Ciao amico Polpo esplosivo Fine Esplosivo Fine Vabbè Vabbè Bellissimo Vediamo il finale Non lo metti Mettilo in vendita Non lo voglio Mettilo in vendita Ma secondo me Qualche cosa C'ho da vendere In garmaggio No vabbè Io Io non ce la posso fare No San credibile Riscatta il premio Sì sì Ti devo mettere Assolutamente il bip Mi devi dire come ti chiami Ah ok Riccardo facella Zero tre Sì assolutamente sì Bip Riccardo facella Zero tre Ovviamente Ho riso Molto Molto oso Molto oso Riscatta il premio Che riscatta il premio E donna Ah Cazzo è vero 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 Come si fa Mi fa riscatta Ottenere monete Grati Questo Sì che non ho capito A che serve Riscatta Premio gratuito Basta aprirlo E beh È ora di premiare qualcuno Che cazzo Cento membri Oh Cento membri Attenzione Come si fa a dartelo Così questo No Premia Sì ma che cazzo Ad è sta se il premio Questo Dona È messaggio Troppo Bello Lol Vai Ma poi l'orso Che abbraccia Ma a cosa serve Sto vasavì Voglio stringere la mano A questo ragazzo Vuoi Cioè non capisco Che serve Oh c'è due commenti Tra l'altro Scusate se ho postato Due accidenti Vabbè lo togliamo Il primo L'ho visualizzato Mi sono impanicato E l'ho risposto A queste Due reddit Vabbè Ren Vabbè Ren 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 Massimo rispetto Adò ho perso Un polmone Siamo nel 2000 Che vuoi dire Siamo nel 2000 LOL Sì E quando io uso LOL E io ne faccio Un uso Post moderno Del LOL Andiamo avanti Che sto gioco Non si finirà mai Kung Fu Panda Resta il miglior film Sì anche secondo me E comunque ho visto Solo No ho visto anche il 2 Però l'1 Era più bello Sì Bello Faccio un video Riccate un nuovo Freboot Ah Ma io Voglio dire Beh io Non ho detto niente Non ho proposto A Riccardo Di fare il film Però Chissà Allora Colpo di Boston Ah ma che stupidissima Persona sono Non ho guardato A cosa serve L'altro oggetto Che ho preso Vabbè Si guarda dopo Dai Non bisogna guardare Un altro caricamento Dobbiamo ottimizzare Palme di tuono Aspetta Quello lì Cos'è Laggiù Che serve Serve solo per far Un Tipo se io vado Qui Madonna che grezzone Vai via Mori 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 Però mi sta Mi fa cacca Che non si possa fare L'attacco Grosso Ma che serve Sto via Niente Niente Ammette Il posto Lì Io devo andare Laggiù Ah perfetto Ma quella porta dorata No mi ci vuole il costume Di Quell'altro Vedi Si Ora che sei a metà gioco Come lo valo Si per me Beggio 8 e mezza 9 Una battuglia del Cavaliere Nero Trasporta attraverso la città Un oggetto chiuso In un contenitore sigillato Visti i livelli di sicurezza Metto la mano sul fuoco Che è il bastone di Gallet Ma così non ti bruci Andiamo laggiù Se Gallet ha detto la verità Il Cavaliere Nero Non esce quasi mai dal castello E quando lo fa È per brevi visite Alla bottega del Fapro Questa potrebbe essere L'unica occasione Che avremo Per riprenderci il bastone Neanche lui viene al futuro Uniamoci alla parata Sly prima di entrare in azione Scatta delle foto Al Cavaliere Nero E al contenitore Dobbiamo sapere Con chi E con che cosa Abbiamo a che fare Assicurati di fotografare Il Cavaliere Nero Da davanti Voglio vedere La sua armatura da vicino Su Rima Legend Quante coppe d'oro Servono per quella di diamante No non è che Servono le coppe d'oro Quella di diamante Mi sembia 50 Quella d'oro Mi ricordo più Devo andarci Vediamo Ciao Cromazione con gli spettatori Ah ok Ciao Cromazione Fai la porta dorata Ma la devo fare ora Non ci vuole Il costume Dell'ultimo mondo Chissà se potrei programmare Le guardie Perché mi taglino i capelli A pensarci bene Probabilmente Non è una buona idea Che vuole c'è Che vuole c'è Che vuole c'è Che vuole c'è Sbriati Sly Si arrivano dal papro È la fine per noi Questa maledita armatura è in forza Oh mia Home is gone Ah su 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 Sly se non recuperiamo Il bastone di Gallet Non sarà in grado Di aiutarci È un po' scura Peccato che questo aggeggio Dov'è al pesce Sly fotografa Il contenitore di sicurezza Devo vedere La serratura C'è il legno davanti C'è il legno davanti Come fa a vedere Molto bene Molto bene Sì Sì Se resti indietro Siamo perduti Portacarmo Sotto specie di scatola Corguscio Grande Continua così Adesso sei mio Molto bene Sly Posso aprirla occhi chiusi Cerca di arrivare al contenitore Prima che raggiungano La bottega del fabbro Penetrerò Cioè ricominciata a cavo Grande Continua così Ok Sly Cerca di arrivare Al contenitore Adesso ti cracco io L'attacco silenzioso Così fa c'è Sì è più bello Nel 2 3 Sì fa c'è Veramente Eccolo Vediamo se riesco A non prendere potenziamenti Ce la posso fare Ce la posso fare Accidenti Cosa non si fa Per i trofei E ora come fa Come fa Madonna Non lo prende Non lo prende E' un sipole Un sipole Un sipole Non si poteva E' rimasto lì Bisogna farlo in altri livelli Dove te lo permette Vedrà Che gioco di me Le bombe ti conviene prende Sì ma mi conviene prende tutto Credevo di un Qui un trofa fa Di non prende le roga Mi fai a vendere sto gioco a 39€ Io non lo so Che peste bisogna essere Per mettere sto gioco Intanto l'era Per non fare Né campagne Di marketing Descente Come si fa Ma come si fa Un giallo boss Quello sarebbe un altro Preparati ad essere Formattato Olè Bastava prendere Meno di 5 Evitando potenziamenti Ah Eh vabbè Lo rifarò poi Uno singolo Non è un potenziamento Ti esorbe la cassaforte Di questo tempo Ti permette Di essere immune E danni all'acqua Quando affogli Oh Campagne Marche Hai visto i corti animati Islaquato No Sono scusato di vederli Sì Quando un Hellblade Anche una shot Ah lo vorrei fare Lo vorrei fare Poi un po' Sì Fine Una line attacco Ok Ci sono i personaggi Più maestri Che mi sono in mente Vabbè Il sonno È la porta di Doom Non ci ho fatto caso Soltanete Allora Consenta Allora Di fare uno sprint Mentre carica Tenendo per un R1 Boh Sono potenziamenti Che non si apiscano Quando a me Si tiene una bomba Fagli mettere il tubo Ok Perfetto Allora Mappa Tac E Sì Fammi vedere Qui No 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 Questa l'ho già fatta Ieri Era questo Dopo che Sladis Tutta la macchina Della tempesta E Sir Raylet E Carmelita Ha messo al fresco Quella rana maledita Ah Sir Raylet Sì Quello dell'1 Il suo rimasto Nella sua attività criminale Era il suo caratteristico Cappello Dalla deriva Nell'oceano Il cappello di Raylet Evita i danni A causa di un acco Ok perfetto Benissimo Bene bene Credevo Ti facessi vedere Gli oggetti Su una manata Vabbè Pazienza Andiamo Con Lui Ora lui C'è la sua spada Dopo Sladis Cosa si porta Settimana prossima Voglio fare Ehm Così si chiama Guacamole Comunque accadrà Entro a fine del gioco Che non aprirai una mappa Senza ricordare No ma di sicuro Un paio Non l'ho lasciato Quindi cappella di metal Ma effettivamente Un miriordo Più nemmeno io Ma vedrai no Eccolo Bellino Ehm Ehm È un po' Giusto Il costume a Robin Hood Non ha l'attacco Col triangolo Perché non è Il personaggio È un costume Ok perfetto Dove si deve andare Di qua Non vi perdo d'occhio E lui fa Quest'attacco qui Quindi Quindi Di base È uguale A Sly Solo che C'ha Quell'attacco lì Non credo Dove abbia altre cose Vabbè Questo Sì Provare Sì ovviamente A Sly seine In Sly Dove è andata sopra? Ascolta Sir Gallet, le mongolfiere qui sopra non sono solamente una decorazione per il circo Il cavaliere nero le usa per controllare i nostri movimenti e le nostre conversazioni Di grazia spiega, com'è possibile una siffattazione? È complicato, diciamo che quelle mongolfiere contengono delle macchine che sono come occhi e orecchie Che vedono e sentono a grande distanza E sei l'unico in grado di raggiungerle? Non dire altro, sarà mia cura distruggere cotali demoni volanti Per tema che pongano il loro occhio malvagio su di noi Voglio una catapulta E una roccia grande assai Aspetta un attimo Eh ma che ponga Dovresti trovare un luogo adatto per raggiungere le mongolfiere in sicurezza con il tuo schianto catapultato Poi potrai distruggere le macchine Naturalmente Sarà fatto Vediamo premendo il re uno due volte cosa succede L'occasione perfetta per la mia tecnica dello schianto catapultato Uno scudo? Non me l'ha mai detto però che c'è questa attacca qui Cioè non è un attacca, è uno scudo proprio Sono confuso Cioè cosa ci devo fare con questo scudo? Si è fatta missione fatta sarà Cavaliere nemo e stalker Comunque sono tante le chicche che vi rappresentate per un atto d'amore Sì è vero E carica R2 Ah Come una catapulta Canzo Qui c'è l'oggetto però Porta al covo Via Scusa 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 Cazzaro Grazie Grazie No Ti sono andato perso Ti vado qui? Cosa ci faccio? Cosa serve scusa questa cosa? Che servirebbe? Cosa serve? A niente E beh E poi si può inservare niente Anche questa è una mossa QR1 premuta due volte Ma veramente? Cioè c'è mossa che non si sanno Devo distruggere con queste macchine infernali Ma mi dura un po' Ah mi dura la durata del Della gegeo giallo Anzo Capito 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 C'è un po' C'è un trofeo legato a Clockwork? Che in che senso Tra l'altro in questa mappa Non l'ho ancora visto Clockwork Non so se è quello lì che vola Non credo In tutte le mappe c'è Clockwork Ma Non l'ho ancora visto Che non c'ha il paraduto Lui Che non c'ha il paraduto Odesta torre è un non nulla Per la mia tecnica Dello schianto catapultato Il seguimento in corso Oivo Potrei scalare una siffatta torre Con una mano sola Aspetta 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 Sganciati No C'è la maschera Ma perché Ma prende la maschera Ok Ma perché gira anch'essa Vedrai Ah gira insieme Quindi resto sempre lì Capito Come una catapunta Sembra i picchi di odi Mi ha fatto stirare Tutti i morali Perché Che è successo Il prossimo antenato Lo tiene invece Chissà perché Il paracaduto Ah Da Me l'ha spoilerato Maledizione Poi In dove si va Non scappare Ci puoi dire sì È tempo di porfine Alla ricerca C'è del gameplay Inaudito In questo gioco No Sbagliato Sbagliato Non da qui Presto sarà scoccato Il colpo decisivo Ok gallet Domino è l'ultimo Menomenale gallet Ora potremo comunicare Senza correre rischi Wow Che bello Ma poi la spada Uncinata Stupida Quanto geniale Stas Non ti ho detto Tutto quello che so Però Non mi dite niente Sono triste Ultimamente mi fai Strappare moltissime risate Prendi le risate Strappi Non mi garbano Queste risate Ha bisogno di nuovo Sì Quanti potenziamenti C'è con Gino Qui R1 Per usare Un colpo Stordente Ok Vai torniamo Da gallomir Ma tu manca La fine del capitolo Bah io Non so se ci si fa Stasera Del dubbio Qual è il tuo antenato Preferito Ma in realtà Mi stanno garbando tutti Forse O quello del west O il primo Comunque Le due Ma questo è bellino Però effettivamente Come attacchi C'è solo La scalata Poi un po' troppo Uguale al reset Così Però in realtà Non è che mi sembra così Cioè Esatto È un po' Molto simile A quello In realtà è bilanciato Rispetto anche agli arti Quindi Come ti ho detto Bentley Un'infima Elaida creatura Fa la guardia al castello Se è vero Ciò che dici Secondo le teorie Di geologia avanzata L'unico posto In cui il mostro Del fossato Può nascondersi È dentro Quella caverna Per dinci Forse è perché Codesta È l'unica caverna In questo luogo Esatto Ammesso che Quella cosa Esista Davvero Suona come Una sciocca superstizione Ecco tutto Con indubbio La verità Del mio racconto Permettimi Di sconfiggere L'orrendo bestia E sedare La tua incredulità Ehi Un attimo Gallet Navigare Nella grotta Potrebbe essere Nocivo Per la tua salute Non aver tema Non aver tema Sir Bentley Ti mostrerò L'autentico valore Della stirpe Dei cooper No dicevo che No dicevo che Cioè esattamente come Come Ruishi Rui Ruishi Che cacchio Si chiama Lui ti permette Di fare dei salti In orizzontale Lui invece ti permette Di fare dei salti In verticale Quindi è abbastanza Bilanciato Poi in realtà Con la velocità Era uguale A Sly Anche io Per esempio Il gameplay Di quello Di quello preistorico Mi è piaciuto Ma qui per esempio Io non ho ancora Capito a cosa serve Cioè a che serve Questo Deve servire a qualcosa Non è possibile Che non servano Nulla Serve dopo Ah ok Avevo paura Che mi servisse Nulla Non è possibile Questo gioco È fatto troppo bene Per servire Deve servire A qualcosa Per forza Che faceva Bob Eh C'aveva la clava Si aggrappava Muri Sto solo tenendo D'occhio L'ammazzadraghi Non credo Tu mi abbia mai Coperto le spalle Solo quando cerco Di catturarti Ma Gallet È affascinante Ha un cuore d'oro Anche se è un babbeo È un testardo Allora sbrigati Prima che ser babbeo Si faccia catturare ancora E ora E ora c'ho Camerita Ehi un attimo amico Cazzo amico Un attimo amico Cazzo amico Pancia bestiale Non mi da Visto che ho imparato Madonna quanto sembra Crash bandicoot Sembra crash Wow Le tenebre della grotta Occultano la presenza Del marrano Il marrano Madonna Madonna Ma c'è una sorpresa Tonti Ma io veramente Boh Le parenti delle grotte Possono essere Infite Gallet Fai attenzione Leviamoci Incontro alla gloria Ma cosa bello Il platform 2D Addirittura Questo Forse la prossima volta Dovrei indossare Un'armatura Più leggera No 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 Ma che guarda Che cazzo hanno fatto Aspetta 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 Gianciasi La mia ira si abbatterà Sulla fetida creatura La bestia sta per assaggiare Il valore nei Cooper Dio santo Tra l'altro Mi sa che qui c'è un trofeo Bisogna arrivare in cima In 90 secondi Oho Uuuuh no Lo devo rifà Lo devo rifà Vabbè poi lo rifondo Vai in culo Non so come ho fatto Per dinci Il drago non è dunque in carne ed ossa Ma di ferro e acciaio Per tutte le botte a mano È un robot Gallet Il mostro è una macchina gigante E il sonno non ti abbandoni Bel zelone Presto il tuo fato Sarà compiuto Ma che cazzo di gioco Ma io veramente non ho parole Ma come si fa a dire che questo gioco vince Non è bello Ma qua E ora ignobile marrano Affronta la furia di Sir Gallet Cooper Ma non è incredibile Sto gioco vince C'ha la spina Come faceva questa vecchiera la spina Ma si accende La voce di Rache Non capisco Non aveva tutti i torti Molti lo consigliano Noioso Invece sta fino Effettivamente a me piace un casino Anche il gameplay di lui No Le critiche a questo gioco Le capisco Ma effettivamente io Veramente Citazione a Jurassic Park Addirittura Io mi sento male Questo è un opera d'arte Sto gioco Ok lattina zannuta che non sei alcol Vediamo di che pasta sei fatto Cos'è che No Colpo assurdente Ma lo sto mica beccando Ah Devo sparare lì Ok Boia Cots Sì Grande Carmenita No no Bisogna fare anche l'altro occhio Ora Forza Forza Perfetto Anche Anche Grazie Perfetto 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 Altro bello è il fatto che ci sia un boss con cammerita Vai morto Perfetto staccata la testa Uè Non male me l'hai detto Anche il vento L'idra di metallo è bellissimo Il drago insomma No Oh Ah lui l'aveva mangiato Eh povero me Mi sembra di essere stato macinato come una polpetta Ehi Sei ferito Sir Gallet Sono ancora tutto intero Ti ringrazio madama Confesso tuttavia Che l'essere liberato da una donzella Mi ferisce vie più Sì credo di capire Che ne dici se questo diventa il nostro segreto Te ne sarei tre volte grato E debitore Quale gentile e onesta fanciulla sei carmelita Mi piace sentirmi dire queste cose Boh io non Cioè mi sembra già veramente incriticabile Gon o pantaloni A me Crash 4 ho fatto disperare per le skin che non riuscivo a prendere Però Poi sono migliorato e le ho preso Ok Gallet è un po' sensito Vabbè che c'è Aspettavano le minchia Boss fight bellissima Ma non so Non è finito il mondo Cioè il mondo stile Tra l'altro colpo stordente Per usare un colpo stordente R1 Cos'ha il colpo stordente Boh Qualcosa Sì ma Mi dà talmente tanti potenziamenti Che non me le ricordo neanche Tieni qualcosa Cosa premi per schiantare la terra che hanno un enorme cerchio di foto Treppurante Li diranno pensi per cuore No 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 Vai ora tocca un po' A marri Gallet è un po' sese Ok Qui calmate in ghost alone Mentre la trilogia indosso i pantaloni Non mi ricordo Che avete iscritto Perché io non vi sto più leggendo Il boss finale no Goti sì Sly Cooper Battle Royale Mamma mia Guarda come le sparo Il gioco dell'anno Hai fanno andata giù Una particolare scelta di trama Sì ho capito Però un gioco lo devi valutare Per il gameplay No per la trama Dio santo Ma il gameplay Se le è piaciuto Eh no La gente non capisce nulla Veramente E Su slide 5 Su slide 5 Slavron Films Non è vero C'è un trofeo dell'eggenza Per perdere danno No Però c'è il trofeo Di arrivare in cima Senza Cioè Andando veloce Mi fa piacere Che sta scrivendo meno Quindi Bene Scrivete meno Perché Stasera siete on fire Buonasera Mi sto innamorando Di questo gioco Io mi sono già innamorato Già dopo Con la demo Ma ero innamorato Lo devo prendere fisico Sto gioco E dove Fisico Incelofanato Però in italiano Sarà dura Trovarlo Scriviamo meno Perché c'è a noi Vai 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 a fare una girata Vai Lui cosa c'ha Pugni di fuoco Pugni di dinamitardi Boia Ma che ghiozzata è Pugno di tuono Oh Ecco Non si apisce potenzialmente A cosa servono Boia Ah vedi Sì Sono potenzialmente Automatici Che in realtà Non ci può fare nulla Bo E' un po' Un po' Un casino Stasera potenzialmente Forse è l'aspetto Meno curato Forse Non c'è Non si apisce nulla Ma qui questa porta Cosa Eccoci Eccoci Dobbiamo colpire il cavaliere nero Nel punto debole Cioè Dobbiamo smantellare le operazioni Che ha avviato Nelle botteghe del villaggio Per prima cosa Marry Dovrai andare alla taverna Mi dispiace Ma non ci sarà tempo Per uno spuntino La taverna è stata convertita In un impianto Per la produzione di carburante Per le guardie robot Vai lì E fai ciò che ti riesce meglio Distruggi il locale Poi Sly Tu dovrai tornare dal calzolaio Spegneremo i macchinari Usati per fabbricare Quegli arti giganteschi Ultimo Sir Gallet Tu dovrai infiltrarti dal fornaio I miei strumenti hanno rilevato Che la principale fonte di energia Che alimenta gli altri impianti Si trova lì Sei l'unico Che può arrivare al secondo piano Dove suppongo Si trovi il generatore Non c'è tempo Da perdere Diamoci una mossa Avete sentito Bentley Insieme Possiamo far crollare L'intera operazione Giusto Prontissimo A dar calci Vedi 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 Bona che tronata Apro il pugno dinamitardo Ma come fa Ma come fa C'è qualcosa del profeta Di sciamano Sarà una nube di dolore Da cui scende una tempesta distruttiva Cazzata Ecco qui ora posso Sbloccare questo Ma mi sa che l'avevo già preso Allora che devo fa Ok Distruggi macchine Ah le devo buttare nelle cose Oh vaia Eccellente Murray Ne mancano due Murray È terribile come un ciclone di devastazione A quanto fare Gli ho io Tutti in avanti E il colpo Murray No Dove l'ha tirato Dove sono Dove sono Le guardie Eccolo Spawna un po' piano Mazzo Ah vedi ora posso correre Con l'omino Un corpo La tuzia Sbagliato Botte da orb Eccolo Ah è finito questo Dove è il buo Ma deve andare su Mi sa Colpito alla schiena Ma cosa fa Ma lo vedi Sei Sei scemo Eh oh Ancora uno Cosa Che rotto Temi Garby Pon Questa mazza Ma ti do noia Oh E l'hai batta Murray E Murray Tionfa A me piace Di this fox Ah vedi ora posso Posso Muovermi anche Mentre Mentre Rubo Musiche meravigliose Inti la Cioè io non lo volevo Gioca sto Non lo volevo gioca Non lo volevo gioca Perché Da quanto non mi ha Garbato i primi Ma incredibile Comunque Vale vedi San Luca Deve far Cosplay Di Carmelita Un periodo Di vita Sly Gli strumenti Rilevano valori Insolitamente alti Ai piani superiori Della bottega Sly L'arco Ti sarà Senz'altro Utile qui Ma dovrai Stare bene Attenso Sì Grazie al cielo Ho giocato Che taglia La corda A cui sei Aggrappato Cadrai In quella vasca Di metallo Incandescente Proprio Sotto di te Ed è un male Sly A volte Non colgo Il tuo senso Dell'umorismo Che bello Sly Che finalmente Mi apri il culo Bensley Dai Oh Allora interagisci Sto a stare Dell'arco Che non lo puoi usare Però non mi va giù Cioè C'hai l'arco Ma non lo puoi usare Devi usare Solo le frecce con la horda Non mi va giù Sto a sei Non l'ha Non l'accetto Ah Tagliato la corda Vediamo se ci riesco No taglia la corda Taglia la corda Guarda No taglia la corda Taglia la corda Zà Però sì Non mi va giù Lo stesso Sterza Mamma mia Holy shit Ragazzi Raggiungi la scatola Dei comandi Contra la stanza E io fermerò Questa operazione Una volta per tutte Veloce Veloce Centro 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 No Ancora sto robino Lì Prendo il controllo io Da qui Stai Armato al costone Sono serio Ci vado a Luca Vestita e carmita Ma avete pure voi Mi serve la squadra Al completo Davanti Minigioco Equilibristico Aia Aia Wow Potenti questi repulsori elettrostati Flashbash Sei tu Oh Non c'è più secondi Che culo Sabacu Sanzaro Cos'altro ha fatto Ha fatto Spiro 3 Della Renate Trilogy E poi Insieme a Toys for Bob Ha fatto Art3Rubietta Ha fatto dei gioie di Sonic Per 3DS Che però Sono andati malissimo Ci hanno voti Bassissimi Un sacco Ma ha fatto Ha fatto Detroi E poi Lo so Vai su Wikipedia Lo so io Visto che Ho PS9 Nel weekend Inizio anche questa serie Sly Grande Finire Sly 4 Allo showcase Annuncia il 5 Sarebbe stupendo Io guarda Sarebbe veramente bello Sì Effettivamente Sarebbe proprio Destino Lì Allora Se succede Io ricredo Di nuovo Nel destino Come quando ero piccino Quindi è finita No Ora c'è il pezzo Di cosa Ok Ok Gallet Devo introdurti Dal fornaio Spegnendo gli impianti Riusciremo a fermare Le operazioni Del cavaliere nero Non temere Distruggerò Abbastonate La fonte Della piaga Che corrompe Queste lande Che vado su Che vado su wiki Deve andare Deve andare al piano di sopra Ma non vedo punti di accesso Guardati intorno Ci deve essere un modo per salire Lascia fare a me Pesley Vai a giocare a Ratchet Ma è la voce di Ratchet Ultimo Quello di armi di istruzione Perché cambiarono Doppiatore Brasile Il file compagno Carmelita Andalucca A cavallo Fra ottobre e novembre L'ultimi giorni Sia programmato Per esettarsi E devi disattivare Tutto prima Che si azioni Bando Alle ciance Ciancio alle bande E' l'ora Di agire Aiuto Non ho capito Se avevo fa Ma lo scoprirò Bello Mi è giusto Devi spegnerli tutti Prima che si riattivino Non temere Sir Gallant Trionfer Se tocchi laser Il generatore Si raffetta Ilfa Ancora uno Fallo prima che si riattendano Vorrò fine al male No Di nuovo Madonna Ignorantissimo No Ma stessi Zitto un attimo Invece di parlare Sproposito Come uno stupido Bella stosa Platforma bestia Proprio Porca Quella Zietta Io voglio Se fanno Slashink Voglio un'opzione Per Zitti Cosmo Cioè Nelle opzioni C'è Non voglio Rotture Di Bantley Disattiva Bentley Disneyano No No C'è al cavaliere nero mi dovete romper almeno uno che fa bentri no io rimarrei druso se fare Sly5 fosse Sucker Punch anch'io io non voglio Sly5 fatto a Sucker Punch perché non lo sanno fa Sly anche se non hanno inventato oh grazie buonanotte a tutti vi auguro una buona live grazie mille sto mondo fra un po' si chiude se finisce sto mondo ancora potenziamenti cazzotti fulminanti pugni elettricità quando sei davanti a una bomba in esplosa per un quadrato per carciare direttamente verso un obiettivo vicino come si chiamava qui come si chiamava sognando bene sognando Bentley ok via la bad girl piange per colpa vostra mi sta venendo sonnissimo ma tre ore di live non c'è potenziamento dei pugni delle mani e può darsi portatemi sulla coscienza mi stai facendo piangere che non vi esiste no no sei te che devi far carmelita ti colori la pelle d'arancione usare la griglia oggetti appena compra si tutte le volte me lo dice stavo usando il costume arciare che non ha il coso però non non mi va giù vediamo qual è Sly due volte R1 cosa fa non fa niente mi sa che lo devo comprare R1 R1 non vedi che non fa nulla ehi il cavaliere nero si sta spostando Sly devi stargli alle costole finché non arrivo là d'accordo sbrigati lumaca vabbè non perderlo di vista Sly buongiorno i pianti di promozioni in crità non funzionano bene devo vederci chiaro ho il presentimento che in tutto questo c'entra in culpa non cazzo parla sembra ci abbia un'operazione alla gola ho fatto così ho fumato trappe sigarette in vita mia accidenta a me ma però le missioni di pedinamento mi fanno ca mi fa impazzire devo eliminarla una volta per tutte poi potrò rimettere a posto le cose se le missioni di pedinamento ce ne è una ogni mondo è vero fanno veramente ca vabbè ma già è talmente bello che si perdona no 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 dov'è guarda che bellezza quando avrò sconfitto la banda di cooper li metterò tutti al circo potrei anche miniaturizzare il loro furgone e farne un autopagliaccio ma la voce di mister crab no mister crab qui con la macchietta sulla gola che si sfoga su telegram chi si sfoga su telegram o il presentimento che in tutto questo c'entra in cooper cos'è? ma no di per dire ma le vite sgelose smetti di dire fatti miei ma è il gruppo v c'è bu dei sub ragazzi siete sub è entrato il gruppo sub comando telegram c'è il bot è entrata il gruppo sub mi fa venire il mal di testa mi fa impazzire devo eliminarlo una volta per tutte poi potrò rimettere a posto le cose mi rendi conto delle minchiate che hai detto nell'arte live che quali minchiate ho detto nell'arte live che è un mese fra poi si giova Sly ora mi faccio un gruppo tutto mio no quando avrò sconfitto la banda di cooper li metterò tutti al circo potrei anche miniaturizzare il loro furgone e farne un autopagliaccio che ridere il sistema di sorveglianza non funziona bene saranno stati di nuovo quei maledetti uccelli devo inventare uno spaventaposseri dotato di lanciarazzi è impazzito impazzito il coso è impazzito la GG dovrei riuscire a entrare attraverso quella finestra sul te finalmente avremo delle risposte c'è debug oh finalmente si gioca un po' con Bentley ah ecco cos'è non ho capito se lo devo fa' io avevo visto il potenziamento dice premi croce quando sei in alto per dare una schiacciata ma non è vero go bisogna andare sopra guarda la mia clip ma me lo riordo cos'ho fatto cos'ho detto un'operazione alla gola Ho fumato trappe sigarette In vita mia Accidenta a me Un'operazione al Devo avvicinarmi senza farmi scoprire Posso disattivare i campi laser Usando i dardi Mappa Aspetta Ehm Questo è il momento in cui spiegano Un sacco di cose all'altro Perfetto, stiamo attenti Cosa c'è? Cosa è successo? Cosa ti è successo? Boh Meglio che stia quassù fra le travi Non devono scoprirmi Precisione difficile Meglio dare cooperi in pasto al drago O trasformarlo in un tappeto Potrei prima darlo al drago E poi fare un tappeto come gli avanzi Non gli permetterò di mettere le mani Adosso Sly Non esiste Dobbiamo fermarlo E non ho sentito niente ovviamente Ciccio pasticcio Vino qua Ah giusto E' un bambino E' un bambino O un frigo per le bibite Mi viene una sete tremenda A lavorare con questo addosso Mi sa che dura di più Vedrai il volo sospeso Ancora confusere Ma le domande di Cooper Saranno anche riuscite a fermarmi per ora Morrite bene Il mio castello è impenetrabile Una volta che l'operazione overlord sarà completata Nulla potrà fermarmi Se dico che Jack and Death Mi piace solo il primo che succede Non mi piace per niente Succede che siamo d'accordo Cioè Non è il momento Però Siamo generalmente d'accordo Ancora? Ah Il cerchio laser del velocizzatore Funzionerà benissimo con lo scambio Non si era più usato questa cosa qui Questo Questo mossino È solo la seconda volta È stato un tutto gioco E tira fuori questa cosa Commetto che un cerchio laser attorno agli scambi multi Ti risolverà il problema Il culo Oh Andate a fare Nooo Dai ma ei Devono rompere i coglioni loro eh Tutti e due mi sa che li devo prendere Olè che meraviglia Benissimo posso usare questa chiave Per disattivare il firework Spiegoni dopo 30 ore di gioco Però no I due e tre sono fatti bene curati come si deve Ma è più imbattibile Che pensi delle cosplayer Domanda è troppo generica La live più lunga del cane Non è vero Sono tre ore Ieri si è fatta ai quattro Ma non appaio sempre paura Jack 2 è invecchiato peggio Ma il 3 è davvero bello Jack 2 è invecchiato peggio Si Diciamo No non voglio pensare a Jack Voglio giocare qui Voglio concentrare Allora Non è Non è Oh Devo migliorare il progetto di queste cose Abbiamo sempre qualche malfunzionamento Forse potrei sostituire le gambe con delle ruote Ma contoppare qualcuno ha dei problemi di progettazione Oh no Dov'è quel pulsone di Le Paradox quando ho bisogno di lui? Non fosse stato per me che ho rubato a vento i progetti della macchina del tempo Oh Penelope quanto sei stata stupida Oh no I miei progetti? Vuol dire Che sono io la causa di tutto? Penelope Penelope Spero che tu stia bene Giuro sul guscio di mia madre che ti farò a pezzi con le mie stesse mani Cavaliere Nero Il Cavaliere Nero ha rubato Le robe Di Marri Una battaglia all'ultimo bite Però se... No aspetta Ok ok Non lo spoilerate Anche se so già Io mi sono già spoilerato tutto Perché tanto Anche oggi sono mille problemi con Twitch Non so Sì Non spoilerate comunque Anche se non c'è niente a spoilerare Allora vediamo se riesco a non prendere i potenziamenti Anche le bombe contano come potenziamenti Sì Ha fatto tutto il livello Si e pesa La pistolina si che sia No 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 Yeah Mamma mia mamma mia mamma mia Che culo Vai via vai via Nononononononononononononononononononononononon Mamma mia Fitto che ansia quanto manca però senza potenziamenti nella morte no ci vuole un'ora e mezza ci vuole un'ora e mezza senza potenziali preparati ad essere riformandato perché voglio prendere i trofei madò tra l'altro in uno dei livelli più difficili perché è l'ultimo mondo pazienza pazienza data bus data bus la tuzia non devo morire ora dai trofeo 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 perché fanno i livelli iniziali eh lo so ma se è pro player bene eh lì c'è roba però eh ho visto ma vaffan addio mi ha sciullato totalmente oro blant blantley potenziala bomba ha fatto danno eccola ci siamo 8 su 11 ma è qui la porta scusa eh ma allora lì dove vado ma da nessuna parte serviva solo per prendere la maschera se vado di sotto non ci devo andare di sotto posso ci devo andare sotto ah no 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 ok avresti dovuto scappare finchè potevi dai zitto mi stai sul cazzo guardare se mi abba das fino a fare l'ingame un attimo Ottima grinta Guarda tutto No Ma come bravo Come si chiama Lui L'abilità di programmazione Ok Ci vuole il dardo per forza Quindi lui ha rapito Penelope E ti fanno i cocktail con l'ombrellino E ti fanno i cocktail con l'ombrellino Ma che spettacolo Ole Ok Ok Ma non è possibile È soffocante Quasi quanto bello Penelope Ma perché avrebbe Se solo Cooper Non avesse fatto il lavaggio del cervello A Bentley Con quelle assurdità Sul ladro onorevole Avremmo potuto guadagnare Miliardi Progettando armi Pensa I due più grandi geni Del pianeta Lavoro assieme Avremmo conquistato il mondo Beh Pazienza Una volta eliminato Cooper Vedrà le cose dal mio punto di vista Povero Bentley È così carino Quando resta senza parole Io Sento che sto Per vomitare Ok Questo è il famoso colpo di scena Che ha Fatto cagare a tutti Effettivamente Non ha Non ha senso Penelope E Bentley Stavano bene insieme E poi lei cambia idea Quando Bentley tornò al covo Si ritirò nel suo guscio E non ne volle più uscire Cazzo C'ha la lampadina L'amicizia e la nostra fiducia Ma soprattutto Il cuore di Bentley Si sentiva responsabile Di quella brutta situazione Ma non era colpa sua A turno Tutti cercammo di convincerlo ad uscire Ma nessuno ci riuscì Alla fine capimmo che Bentley Avrebbe dovuto decidere da solo Di tornare con noi Purtroppo Non potevamo aspettare Dovevamo eliminare un essere malvagio Con o senza il suo aiuto E stavolta Era una questione personale Ah lui è andato via proprio Si non ha Non ha senso Effettivamente Perché cioè Non porti mai A Non Cioè Qual è il percorso Che fa lei Per arrivare a questa decisione Mettiamo si il binocon Premere uno Per spara un dardo Ok Loro stavano insieme Alla fine È nel 3 che arriva lei Nel 2 non c'è mi pare No Non ha senso Effettivamente Questo Quest'idea Cioè ad esempio Se io guardo Questo firmato qua Anche Bentley Si godeva il suo riposo Costruendo un nuovo laboratorio Con la sua ragazza E collega esperta In tecnologie Penelope Si era unita al gruppo Nella nostra ultima avventura I due avevano subito legato Sembra che avessero appena finito Di lavorare a un progetto top secret Quando Penelope Era semplicemente svanita Una ricerca affannosa Non aveva dato risultati E Bentley Era davvero preoccupato Poi notò qualcosa Che lo lasciò di sasso Nel tempo libero Bentley Aveva fatto ricerca Sul tipus racunus Il manuale Del maestro rapinatore Tramandato Nella famiglia Cooper Con le pagine Che trasudavano Le imprese E le tecniche segrete Dei miei stimati antichi Solo che ora Quelle pagine Non erano così piene Infatti stavano scomparendo Proprio di fronte Agli occhi di Bentley Capendo che non c'era tempo Da perdere Raccolse le sue cose E si precipitò a Parigi Vabbè qui torna Perché ne manca uno Qui torna Perché appunto Si capisce Che lei lo aiuta A creare la macchina Nel tempo Per rubarla Ma perché? Cioè Io non mi ricordo Quando Nel 3 Quando Sarta fuori Penelope O nel 2 Nel 3 Diciamo che Un coefficiente Non metteranno Sì Personalmente Non lo trovo Troppo No Perché comunque È un personaggio Marginale Abbastanza Però non mi ricordo Bisognerebbe Andare a vedere Penelope Come viene introdotta Nel 2 Nel 3 Perché non mi ricordo Dove la trovano Io mi ricordo Che all'inizio Lei era interessata Più a Sly Che non a Bentley Forse si capirà Per un cambio Di carattere A caso Ma diciamo Che in realtà Ci potrebbe anche stare Che lei Era Cioè Ha fatto il doppio gioco Ci potrebbe anche stare È un po' buttata lì Perché comunque Mi devi far Capire un po' Lo sviluppo del personaggio Cioè mi devi far capire Che comunque Penelope Trama qualcosa Però è anche vero Che se mi fa vedere Che trama Si capisce Dove vai a parare E quindi rovini L'effetto sorpresa Che io me l'avevo Già spoilerato Quindi per quello No Anche perché Cioè io ho conosciuto Sly In questa settimana Quindi Però Sì Ma Era il balone Cioè più che altro Il dialogo di prima Quando C'era il balone nero Che camminava E diceva Eh Bentley Quello lì E Meno male Ho rubato la macchina Nel tempo E Il balone Nero Parla di Penelope In terza persona Capito Quindi Cioè Lei parla di se stessa In terza persona Motivazione sono i soldi Sì Ci sta anche Perché sono ladri Per quanto ancora Porterai slide Quando si finisce Mancheranno due live L'entrino la conosco su internet Lei accetta di aiutarli E proteggere l'hangar Per poi fare amicizia È vero Si conoscono in un chat E poi si scopre Che era il balone nero Con questo Mancava Mancava un video Non si sa perché In realtà Dopo spiega meglio Sono un'esenzione Ma non regge uguale Ok Tanto penso sia finito Ormai Sì Che sia forzata Siamo d'accordo Perché comunque Come se in un nuovo crash Di punto in bianco Aku Aku diventa cattivo Oddio Non si può fare Proprio questo paragone Però Diciamo che Mi devi far capire Perché Cioè Me lo devi spiegare In un modo Molto buttata lì Sì Ah Vabbè Devo salire No Devo andare Di qua Di qua Di qua Vai 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 Dobbiamo eliminare Penelope Ma come? Accidenti Ci serve Bentley Sono ancora alquanto turbato Dal fatto che Il Cavaliere Nero Fosse Una vostra amica Chiaramente ora Non è più nostra amica Di fronte a un simile tradimento Non ci resta che una cosa da fare Prendere d'assalto il castello Aspetta Alla fine del 3 Nulla fa pensare a un doppio gioco Da parte di lei Sì Diciamo che Viene presentato come un personaggio Un po' ambiguo Perché all'inizio interessa Sly Poi Però Poi stanno insieme Effettivamente Però Diciamo che Ci voleva un po' di Sottotrama Se non altro Ma un po' pensata meglio Attivo subito il fiuto Il dado è tratto Buona fortuna Mi metto alla ricerca di inafferrabili bulbi di fuoco Ecco a cosa servono I bulbi di fuoco Guarda l'animazione mi son fatte bene Chi avrebbe mai immaginato Che il cavaliere nero Fosse una dama Fosse una topa No Mi prenderò Mi prenderò Il tratto è dado Cos Ma non è qui Ah no non è questo È quello lì Quello là Un ultimo bel colpo È ciò che ci serve Quante smancerie Su Non si poteva trovare Esemplare migliore Con quelle scovarne altri due Otterremo delle bombe Assai notevoli Si parla addosso Proprio Con un colpo Ben assestato Dovrebbe aprirsi All'istante Interessata Slime Ma non c'entra nulla Lo stesso Che il fatto Che qua Prende E dice Che vuole fare Il cittadino Le armi Si Si ma siamo d'accordo Non è Non è molto efficace Anzi Si Il punto Sai cos'è È che Penelope È un personaggio Secondo me Talmente marginale Che Cioè non mi cambia nulla Onestamente A me mi sta bene anche così Però capisco Che la gente Soprattutto dopo otto anni Si sia sentita Un po' Un po' strano Una pacca secca Dovrebbe rimuorerlo Bah Effettivamente Spero che Slicey Sia dedicato molto Alla pratica Di tiro con l'arco Aspetta che ho visto Una maschera laggiù Andiamo un po' Da arrivarci Come ci arrivo Come ci arrivo A quella maschera La De salire Come arrivo Alla maschera Come ci arrivo Come ci arrivo Aspetta forse Eh Mi ci vuole Il Cavaliere Nero Vabbè Non il Cavaliere Nero E il coso Niente nato E il Cavaliere Nero Avanti Madame Messeri Tentate la fortuna In questo gioco Di abilità Salve mio signore Vuoi tentare Se sei abbastanza Avile Puoi vincere Una bottiglia Di polvere magica Di merlino Originale Che cura la malinconia Arriccia i capelli E risponde Alle preghiere E funziona Anche Per fare bombe Beh Ha fatto Di avere Dei polvi di fuoco Per farla Bruciare Sì però è vero Penoro Penagiano Doppiogichista Nel tre Con la faccia Del barone nero È vero Quindi alla fine Tanto il barone nero E poi diventa Il coso nero Lì La bestia nera Quindi Ti voglio fare Una domanda Seria Quali sono Le prime Pervenite Le mie Non so Perché Quelle La pitta Non so Mi piacciono Tante Tante Anche quelle La cipolla Tutte Tutte No Tutte No L'abbiamo Mangiato Una volta Un'edizione Che non Mi sono Preciute Ma Mi ricordo Quali sono La guardia Ovviamente Non si fa Due domande Sul Poi c'è Non è Interessata La polvere La spara Sì Avrebbe funzionare Più visto Il suo passato A fianco Di clockwork Però è vero Nel 3 Effettivamente Lei Si veste Da Barone Nero Cioè Lei è Il barone Nero Che poi Non ha senso Perché il barone Nero è un pugile Cioè Insomma Anche C'è In tutti I slice Delle forzature Immonde Però Capisco Che dopo 8 anni La gente Se la prenda Di più Per questa Forzatura Qui Però Sinceramente Non mi Serva Così Grave Come Sì È forzata Sì Si capisce Male Sì Però Secondo me Ci sta In tema Con tutto Il resto Però Ci sta Che lei Si sia Abbia Bindolato Ventri Tranquillamente Per fregarlo Cioè È comunque Una persona Che giura Su internet Quindi Secondo me Non è così 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 Brutta Come soluzione Onestamente Ho sonno Urca Centrato In pieno Un tiro Da brivido Guarda che qui c'è un tesoro Un trofeo Vero spettacolo Non ricordo io Non si sa perché Si è vestito A ballone nero Eh Io guarda Non mi sono neanche chiesto Effettivamente Perché ho detto La trama Degli slime Mi sembra Quello che è Quindi Hai davvero Della stoppa Porca Devo cercare Di non sbagliare Se avessi Avuto una scrittura Fatta meglio Una scrittura Con quattro E se avessi Avuto un bel gioco Lo stesso Sì Per me È un bel gioco A prescindere Dalla trama Che è una trama Da platform Ricordo Sia Per essere più Sfigato Odiato Ingiustamente Bent E lo so Sì È un po' triste Stato Sfigato Nella vita Sei un professionista Di la verità Ce l'hai fatta Mi dici Dio santo La minorenne Non poteva partecipare Alle gare degli assi Sì Ma uguale Dice Era un vecchio pugile Che non torna Non torna Lo so Il barone nero È forzatissima Anche la via Che addirittura Si vede Il barone Nel castello Che parla E dice Eh Questi visi Sono ingentaccia Così si fa Ragazzo Eccellente Il Sonate of Doom Isato in cash bass È vero Anche in cash bass Così si fa Pigliuolo Ne inspiro È vero Che l'hai fatta Cash bass Me lo riordavo Aspiro o no Così si fa Ragazzo Porca Eccellente Hai fatto il proprio schifo Ma il trofeo Cosa mi dici di fare Fai vedere Ma io ho un sonno Ma io Eeeh Dov'è Questo Il minijoco Tiro dell'ana Senza colpire I bersagli amici Ah Basta che non colpisco I bersagli amici Credevo Non dovessi Perdere Nessun bersaglio Questo è il suono Quando entra Una palla Un po' Esatto Di non far schifo Riguardo Sony Cores Allora l'ho provato E ne ho migliorato Molto rispetto A la versione I firmati giochi Fanno cassa L'ho visto Cia faccia più Dovevo chiudere la live Sono stanco Un occhio di lince Un tiro da brivido Mamma Mamma Ma va Ho preso Ma come fai A prendere e bersagli amici Scusate Questo è il meglio 120 Ma come 120 Ah perché ora si muovono Ah ok Ora si possono Render e bersagli amici Un vero spettacolo Sei un professionista Di la verità Urca Centrato in pieno Un occhio di lince Eccellente Urca Centrato in pieno Così si fa ragazzo Così si fa figliuolo Non ti manca 20 Sei un professionista Di la verità Un tiro brillante Perfios Polvere magica Bello 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 Sto torfeo con il lag nel now In effetti Vabbè ma non è che andare Più cazzo perché Twitch Sta avendo un minimo Il problema No questo livello Si chiudevi stasera Perché sennò si A parte non le voglio spezzare Però Sennò veramente Va troppo in là Tanto manca poco Ancora trovo Cose Spin Premi Oh eccolo Premi due volte Non ho monete No La prima volta Che non ho monete Va andiamo con il momento Eh ma Non credo manchi davanti È un espediente Da cartonino Così Fatti Quindi Non vedo Eccessivamente male Nel fare Che Penelope Voleva i sordi E ha tradito Bentley Cioè capito Non È forzato Sì ma ci sta Sinceramente Non lo vedo così Non lo so Non lo so Secondo me dipende molto Da quanto uno Si è affezionato A K E a Penelope Io In questo caso Non sono affezionato Perché l'ho giocato ora Non me ne frega nulla Quindi Secondo me influisce anche questo Boh non lo so Non lo so Boh Vediamo come va a finire Oh io voglio dire Una trammetta Da platform Non è Nel last Quase Aiuto Si potrebbero sforzare Un po' di più Su fermati Sono molto meglio Quindi la list Ah della remake Dei remaster Eccoci Finale 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 Guarda Valerini Si è proprio quello Che volevo chiedere Sentite È piuttosto semplice Dobbiamo entrare nel castello Abbiamo gli esplosivi Era un'altra cosa Che volevo chiedere Chiudi la bocca Sly Le tue parole Non ci sollevano affatto Il morale Sly Gallet Installiamo gli esplosivi Vicino al comando del ponte Per dinci Fare un piano realizzabile Ok Preparatevi a uscire Allo scoperto Dopo aver calato il ponte Dovremmo entrare alla svelta Scusa Mi sono perso la parte Su cosa facciamo a Penelope Dovremmo improvvisare Per me Non c'è problema Guarda Valerini Scusa No no Cos'è Ma perché Dai premete voi Dai Tutti Scrivete O No È andato dal seno Automati Volevo farvi Gioino Vabbè Volevo farvi Framere a voi Vabbè Sempre peggio Te lo avevo detto Che sarebbe diventato Indisponente Ecco la panda Eccolo Eccolo Orpo Orpo Sta scappando Orpo Che cazzata Il numero Io non vedo solo il stream Non vedo solo il gioco Ma scherzava Come cattiva Donna Gigante di metallo Guarda che bello Oh la la Oh la la Spero che tu sia a prova di laser Non c'è Aiuto Cosca madonna Cazzo Bello 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 Benvenuta Cooper Arrediti Ma te guarda come sono studiati i boss si non mi va giù che l'arco da solo non lo può esatto però mi sta sulle pali aiuto 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 che spiettavolo mi sembra troppo facile però possibile sia così facile ah ecco non è facile no un'altra volta mamma le frecce slay scaldiane le frecce slay ruvati c'è qualcosa che non va a Penelope ti senti disarmata? vengi questo! vengi questo! vengi questo! però è anche vero che si è fatto il drago prima quindi è un boss che comunque cioè ci sono due boss quindi quelle prime è stato più complesso effettivamente ci sta che questo sia un po' più semplice uno solo ora passa l'attraverso vabbè così vediamo se ci spiega hai una vaga idea di quanto valga quell'armatura è un pezzo assolutamente unico mi sei già costato abbastanza Cooper è il momento di fare i conti con l'oste basta così Penelope mi hai sentito? cosa? Bentley quell'armatura è il mio mostro del fossato sì quello che ne rimane il progetto si prestava l'ho un po' adattato era solo un prototipo in ogni caso perché l'hai fatto Penelope? mi devi almeno una spiegazione perché? per te ovviamente dovevo mostrarti come sarebbe potuta andare io non diventerò uno dei tuoi scagnozzi Penelope scagnozzi? divertente Bentley considerando che lavori per un ladro sai qual è la cosa più preziosa che Sly abbia mai rubato? il tuo potenziale assieme avremmo potuto cambiare il mondo noi due ma tu vai ancora dietro all'onore in cambio di un pugno di spiccioli ma quando aprirai gli occhi? quindi ti sei venduta le paradox per i soldi? no non mi stai ascoltando lui è solo un mezzo c'è dell'altro wow è io che ti credevo intelligente pensi davvero che ti lascerà andare così? sei solo una marionetta nelle sue mani e quando non servirai più ti taglierai fili senza scrupoli non sono la marionetta di nessuno peccato non poter dire lo stesso di te mi dispiace Bentley sai ormai penso che dovremmo rendere ufficiale la nostra rottura Penelope aspetta non è così che deve finire oh io credo di sì è arrivato il momento ma sai che a me piace invece questa cosa? no nome goffo a me onestamente non mi ha convinto se io la vedete super che super sembri una lattina vuota che rotola ritenta ti spedirò dallo spaccia carrozze male goffissimo attenzione il robot è un robotame non hai la minima possibilità accettalo oh ti si vedono le cinghie e quella sarebbe un'analisi vettoriale il tuo scarico è davvero un problema wow che servo comandi lenti no 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 vieni a prendermi mi dispiace Bentley avevi già perso in partenza madonna ho perso all'ultimo momento cazzata è rimasto un pelo le ha rimasto non puoi godere all'infinito mezza cartuccia ti conviene fare di meglio ti trasformerò in alluminio per alimenti ops hai appena annullato la garanzia che male hai un odore di circuito sano i tuoi amici non possono aiutarti ora il robot era un progetto del 2005 hai un progetto del 2005 hai finito il carburato perché appunto era il 2005 l'ultimo il 2 insomma grazie Bentley senti mi spiace per Penelope no Sly dispiace a me scusate se non sono rimasto qui ad aiutarvi non preoccuparti ha preso in giro tutti lo so a me mi torce ma sono scuse per non essere stato con lui come fa un lei a sta con lui cioè che senso aveva per forza c'era un motivo ci sta ragazzi noi qui avremmo bisogno di aiuto dobbiamo aiutarli a uscire da lì conosci qualcuno capace di farlo? beh una persona la conosco ma probabilmente è impegnata a me già nel treno mi convinceva questa Penelope quindi non capisco perché è bello riaverti tra noi ma per me ci sta questa cosa poteva essere fatta meglio sì però contattammo Dimitri che parlò di tempeste di sabbia e sputo di cammello alla fine riuscimmo a decifrare abbastanza da capire che ora era il mio antenato Salim Alcupera a essere in difficoltà e che avremmo dovuto precipitarci nell'antica Arabia carmelita ci diede la soluzione era riuscita a intascare un'antica moneta d'oro al museo come prova prima che le paradox la rapisse che stavina forzatura però che era proprio quello che di qua aveva bisogno è pieno di forzature ma è la narrazione costruita così guarda che spettacolo senza nulla no via mi ha convinto mi ha convinto mi ha convinto stava stato penero perché lo butta in culo a tutti il dialogo tra benzo e penero personalmente è uno migliore dialogo su tutta sì è un bel dialogo quindi diciamo il mio bello citazione a Tom Bride è quella un antenato che si diceva essere bravo quanto a 40 ladroni non ci sto dire quando benzo scoprì che questo tizio era uno dei membri fondatori dei 40 ladroni perfetto per una volta sembrava che potessimo contare su un bel po' di rinforzi tuttavia quando arrivamo scoprimmo con stupore che la maggior parte dei ladri era in pensione dopo aver fatto fortuna e ormai invecchiati gli astuti briganti avevano deciso di darci un taglio e di godersi le loro ricchezze invece non ci sono presi affatto la presenza di Cirille Paradox il posto era presidiato da guardi e dall'aspetto pericoloso ed era chiaro che c'era sotto qualcosa di sinistro dopo qualche indagine Bentley ci diede delle notizie anche peggiori nessuno vedeva in giro Salim al Cooper da tempo ultimamente lavorava con alcuni dei ladri ancora in attività ma era svanito Dov'era? Era la prima domanda a cui dare risposta Pranta ladrone Mamma mia Mappa Boh Andiamo a vedere la città per un po' se chiude Ora chiude si chiude ora Mi aspettavo Bentley che diceva qualcosa tipo sai non ti perdonerò per poter avere un cazzotto in bocca Tutti antenati maschi in effetti è vero facciamo il ping pong proviamo facciamo il ping pong questo è l'ultimo mondo si a regola penso poi si torni a Parigi però che oh milleuno dopo Cristo una bella l'acqua c'è la città è tipo un oasi ah i ladroni ecco li bello una bottiglia ho visto sembra la città di Gerudo di Zelda ma guarda bello boh certo però allora avevano in programma anche il DLC con l'Egitto però dopo l'Arabia fai anche l'Egitto c'è una simile ma guarda bello guarda bello insieme a una mappa di Slade 2 per certi versi quale se tu c'è la Arabia quanto c'è qua bella grande anche questa mettuta oh l'oggetto guarda che ci arriva non so sparò un tappeto volante quella di Rajan sì sì me ne ricordo me ne ricordo però era più giungla era più India quella lì non era tanto tanto Arabia India e Arabia sono due cose diverse la lampada mamma stupida accidenti le scimmie lì 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 se ti prendo sarà la tua fine come lo fa a mio ah già ma non c'ho non l'ho mia comprata ci volevano 600 quanto c'ho 190 190 ci vuole cosa ragazzi niente morto proprio qui finiremo alle 3 di notte lo so lo so lo so c'è un motivo perché è bello è bella la musica sto gioco è fuori scala sto gioco veramente porca miseria certo davvero se il finale non finisce peccato porca miseria andiamo a vedere cosa c'è la mission andiamo a vedere ah no è la cosa perfetto peccato davvero sulle 4 ore 10 gente smarrì boh peccato questo è un giovane davvero costum costum per identificare qualsiasi cosa con cui salì malcuper è venuto in contatto wow betley sembra davvero fantascienza cioè entri nel negozio e vi dà un pateo dammelo sì se i presupposti di uno slice sono così cioè voglio slice ma devono fare un bel lavoro sta che prima o sta qui no no io non c'è la fa ho attiva il binocum ed esamina le aree circostanti dovresti vedere un bagliore su tutte le cose che Salim ha usato di recente la lampada Sly quella porta è proprio fuori posto qui dovresti fare una foto così la posso analizzare la strana porta strana porta chissà dove porto ok Sly esci di lì e dirigiti al villaggio mentre cerco di capirci qualcosa io ho messo un indicatore sulla mappa guarda belle le ombre guarda io spero davvero annunci Sly 5 davvero visto che ci sono i rumor mamma mia qui davvero è fuori di testa però solo che chi lo fa Sly 5 chi lo fa non ho detto che Sly 5 lo fanno bene così esatto è proprio quello che stavo pensando solo che questo gioco qui se davvero la storia cioè visto che la storia è interrotta cioè si merita un secolo in qualche modo mare master più PS5 con DLC qualcosa cioè io mi trovo nella condizione rarissima di sta giocando a un gioco che non ho ancora finito e che già voglio ricominciare da quanto mi è garbato io ovviamente c'è un gioco che rientra nei miei gusti perfettamente proprio però dici di Salim ma voglio sbloccare costume di Salim così poi domani mi prendo le altre bottiglie le robe mi faccio un po' di completismo dove li trovo l'indici di Salim traccia di calore follicolo pinifero dov'è guardate due l'animes e bottiglia anche vabbè poi le piglio ma dove che pagina vabbè vibra di tessuto sto rilevando dovevo salire sulla horda dove 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 lì laggiù eccolo fuori lì ma che da un pettine salim non sta trascurando il suo aspetto no 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 rifare rifare tio di tio tio di tio è un gioco si giova da seda tanto che è bello gioarlo perché non ci va oh quindi laggiù se no là guarda ma è grande anche ma non stacchi ora appena faccio sta missione stacco c'è il clang nexus è del 2013 di tutta parte 2021 che non si può mai dire che non ha sì però rachet ha venduto molto e più di slide in generale però quindi non è proprio lo stesso paragone però capirei anche l'idea di sony che decide di tirare fuori il nuovo slide cioè ha senso quindi vedremo ragazzi vedremo tanto si può solo aspettare ci sono i rumor sono rumor abbastanza insoliti per un gioco del genere quindi magari sono veri proprio perché sono strani dove devo andare dove devo andare bellina sta missione tracci di calore sembra un posto tranquillo scommetto che saline viene qui per meditare nooo dove è la bottiglia lassù ah meraviglioso meraviglioso anche dritto tutto dritto tutto dritto devo andare botte dappertutto che a 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 c'è c'è ma già c'è qualcosa vicino Interessante, pare che ultimamente Salim abbia fatto un giro di prova su questo cammello Ok Slice, sto confrontando i dati e sembra che Salim sia sulla marca Marca Che banane che diventano monete Questo jazz è improbabile Che acqua freschina, bellina Questa bottiglia è mia, vero? Vero che hai visto la bottiglia? Era mia, ce l'ha scritta No No Sono droga che monete si I tempi si usavano i caschi di Marca come salvan... Ah giusto Ti odio Attenzione ho visto roba... No, qua Eccoci a Salim, trovato Salim si va a let Relicole troiole Salve, sei Salim Alcuper, vero? E tu chi sei? Beh, ecco, è un po' complicato Sono un ladro come te, ma sono nuovo di qui Che ne dici di seguirmi nel covo della mia banda così ti spiego? Che ne dici di farti un giro in cammello? Ok Senti, so che sei nei guai Voglio aiutarti Ti posso spiegare tutto, ma parliamo in un posto sicuro E poi Sembri affamato Ti andrebbe un boccone Cibo? E per quale motivo non me l'hai detto subito? No La voce di coso Vabbè Via Se c'è filmato Se fanno andare a let Sì, batta Esatto La voce Se c'è filmato Quello o no Che abbia Arrivati al covo Salim non si formalizzò troppo con le presentazioni E iniziò ad abbuffarsi Una nuova figura Una certa Miss Decibel Era arrivata in città E aveva iniziato a distribuire un sacco di soldi Non ci volle un genio Per capire chi fosse il sottoposto Che viaggiava nel tempo Salim e i tre ladri rimasti Avevano deciso di mettere a segno Un ultimo colpo Prima di ritirarsi e sparire Miss Decibel era il loro obiettivo Ovviamente Il pallino che diventa la sega Catturare con facilità gli altri briganti E da allora Salim stava cercando Ammazza di tutti Piano per liberarli Bentley scoprì delle informazioni interessanti Sulla storia di Miss Decibel Veniva da una ricca famiglia britannica La musica classica era il suo grande amore Sfortunatamente Oltre a non aver nessun talento musicale Era estremamente rascibile Una combinazione esplosiva È simile a Dopo aver subito uno strano incidente No Non fu più in grado di suonare Normalmente No Quando scoprì che poteva controllare Le persone con note ipnotiche Si diede alla delinquenza Perché C'è la tromba Anficcata la promozione E la cosa non gli suonò Per niente strana La brutta notizia Era che non era del tutto convinto Che fossimo lì per aiutarlo Avevo capito Che avrei dovuto dimostrare Il mio valore Di nuovo No via via Sto gioco È definitivo Sto gioco Basta Anche La t Che Somiglia un po' Al pretesto Che aveva Il tipo di Venezia Di slide 3 Che voleva cantare Non poteva Attacco un pin No aspetta Qual'era? Dov'è? Ce n'era uno Di slide Ma dov'è? Ma quanti ce n'è? Ma guarda quanti ce n'è? Questo Spinta con bastone Prendi due volte R1 Non ho abbastanza soldi Vabbè Via Basta Buonanotte Ci si vede O domani O domenia Col finale di sto gioco Non lo so Quando sarà Sarà Ping pong Ping pong Ma solo le due Via Ping pong Vediamo se si becca il trofeo Dai Facciamo ping pong Però voglio andare anche a letto No davvero sto gioco È Boh Comunque sì La roba anche di Penelope Non è così Indigeribile Come pensavo Come me l'ha sembrata all'inizio Quindi Perché comunque Penelope Già anche nel 3 È un personaggio Che inizia abbastanza Non dico controverso Però Abbastanza Ambiguo È un po' oscuro Cioè lei arriva È una conosciuta su internet Non si sa chi è Si fidanza Beh Prima era Era vestita da barone nero Poi è interessata a Sly Poi si fidanza con Bentley E poi lo tradisce Perché vuole fare soldi Non mi sembra così Incoerente Col personaggio di Di Chiaramente È un po' buttato lì Però Ma io sinceramente Ci sto Ho perso il conto Penso siamo arrivati a 20 Lo so Ho perso il conto Uno Due Penso di esserci arrivata a 20 Però il trofeo non poppa Vero? Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Etto Nove Deci Undeci 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 Vero A meno che non abbia ancora giocato quella di Parigi Io ci penso Ci sei arrivato Eh il ping pong Vedrà lo devo fare anche a Parigi Non mi hai fatto a Parigi il ping pong Si va più a letto Che poi vedi che Parigi c'è sempre il punto interrogativo Però Contro al trofeo Secondo me lo hai fatto No 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 Perché il colpo di scena giustifica la coincidenza di un'altra macchina del tempo Ci sta Infatti ci sta Cioè secondo me Poteva essere fatto meglio Ma ci sta Perché se dici voglio prendermi slide 5 Però non ho giocato i vecchi La vedo un po' Cosa se mi sto leggendo Vedrai che questo io non l'ho fatto Credo eh Io onestamente non mi ricordo Oh Vediamo 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 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 Vedi chi era Vedi Bastardi Era 20 fra tutte e due Non solo 20 io Quindi bastava arrivare a 10 Via Trofeo preso Buonanotte Galletto Si torna laggiù Che io mi devo fare un po' Di robe In realtà c'ho anche da prendere Sì c'ho da prendere un sacco di robe in giro Vabbè basta Qui più che altro Vabbè Buonanotte ci si vede o domani sera o domenica Non lo so Si tenessano i color per fine la storia ci fanno 5 ore per compresimo 16 Bene 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 5 ore sole Vramente In questo caso in questo gioco ti fa vedere un filmato nascosto Cerchiamo di andare su slide 2 Era 10 te lo dissi Allora avevano detto 20 Vabbè Via vada Scusate se ho durato tanto Era tanto che non si arrivava alle 2 Live Siamo a 4 ore e 28 Vabbè Però è stata una bella live Sono divertito E Bellissimo gioco Alla prossima live si finisce Ci vediamo In futuro Buonanotte Ti sta piacendo proprio tu Sì Per me è un gioco da 9 A 9 È il raidino Facciamo il raidino Ma chi c'è a quest'ora veramente Andate a letto Per inside Vai c'è caotico neutrale Vediamo cosa sta giocando a caotico Alla ore alle 2 Social Perfetto Ma dove state finte sono freddi In realtà c'è anche Doriga No andate da lui Andate da lui Andate da lui Vai Dai Buonanotte Grazie a tutti Ci facciamo È sabato Andate a letto Ma infatti Infatti Andate a letto Grazie a tutti